Hey, ciao! State per guardare la quinta puntata della terza stagione del Breaking Italy Night, con ospite uno dei volti giovani più riconoscibili della politica italiana, Elish Line. Se lo steste guardando in tempo, peraltro, lo vedrete a ridosso delle primarie del Partito Democratico, e se siete elettori DEM spero possa esservi utile nella scelta che dovrete fare a breve. Altrimenti, se lo steste recuperando dopo, magari mesi o anni dopo, come spesso accade, credo questo sarà un documento fondamentale per ricordarci di come Elish Line era in questo specifico momento e riportarla su promesse e idee nel caso in futuro, come io credo dovesse giocare partite importanti nel panorama politico italiano. Una premessa, però. Questo video non è né un endorsement, né, al contrario, un modo per attaccare Schlein, che non è il mio stile. Questi video servono per scavare e mostrare il più possibile la persona dietro al personaggio, e non c'è figura che più si costruisca il suo personaggio di un abile politico. Detto questo, Umanamente è stato uno scambio super interessante, e come per ogni puntata, vi invito a guardare i dettagli. Cosa l'ospite dice, cosa non dice, i momenti in cui sembra più o meno a suo agio. Tutto è importante quando l'intervista non è preparata, e chi decide di parlare con me sul palco non conosce mai le domande in anticipo. Quindi, grazie a Elish Line per essersi prestata, non è decisamente da tutti, e grazie a voi e agli sponsor che rendono possibile questo gigantesco esperimento, che è il Night Queen di Tridon e NordVPN. In particolare, che ci ricordi chi è che sfonda le porte qui, perché io sono legato a NordVPN da prima che andasse di moda in questo paese, banalmente perché è un ottimo servizio, lo uso da sempre, e ci tengo a consigliarvi cose utili e che funzionano bene. È una VPN che continua a farsi certificare la sua policy di no log, per assicurarsi che le vostre informazioni non le abbia nessuno, nemmeno loro stessi. Hanno un antivirus, antimalware, antitutto, compreso nel prezzo, che vi protegge dai centomila scam che ci sono qui sull'internet, e soprattutto hanno un pacchetto completo di quelli che li fai e non ci pensi più. VPN per animizzare il traffico e far credere ai siti di essere altre persone siti altrove. NordPass per salvare le vostre password criptografate e averle sempre a disposizione. NordLocker per avere un sacco di spazio sul cloud criptografato in cui mettere le cose e stare tranquilli. Tutto a un prezzo estremamente conveniente se passate tramite me. Ognuna di queste singole cose altrove le pagareste di più. Ed è una compagnia europea, quindi viva la bandiera blu con le stelle. Una cosa sulla quale io e Lishline ci siamo trovati, per dire. Viva la bandiera blu con le stelle. Dai, basta, vi lascio a queste due ore. Spero vi piaccia seguirle quanto è piaciuta a me condurle. Prendetevi da bere, mettetevi comodi, e poi al solito fatemi sapere che ne pensate. E non faccio la cosa che me ne va. Ho i capelli evidentemente più corti che in teatro, è la palissiano che stia registrando dopo. Quindi lo fa, me ne vado. Ed ora, per Breaking Italy Night, Alessandro Masala. Molto bene. Buonasera. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Grazie mille, grazie. Grazie infinite. Grazie. Cosa ci fate qua? Lo sapete che c'è Sanremo in questo momento. In questo istante c'è un teatro più grande con della gente che canta, che è quello che faremo anche noi stasera. Ne siete consapevoli? Perché, ok, ovviamente io darò un'occhiata, controllerò chi effettivamente sta ascoltando e chi sta vedendo, se c'è gente che dà calci a fiori, calci a facco, starò molto attento. Però vi ringrazio per essere qui, apprezzo molto essere venuti alla quinta, credo che sia la quinta puntata della terza stagione del Breaking Italy Night. Puntata super speciale, perché l'ospite è super speciale. Oggi ci facciamo un'idea a tutto tondo di chi è Elie Schlein, candidata alle primarie del PD. Per alcuni sarà già molto conosciuta, per altri sconosciuta, perché appunto non so con quanto entusiasmo stiate seguendo... Ok, ok, va bene. Cerchiamo di migliorarla allora questa cosa. Vediamo di scoprire un po' chi è, cerchiamo di capire cosa pensa, da dove viene, nel percorso che ha fatto, insomma, il solito pacchetto del Night in cui conosciamo meglio la persona, oltre il personaggio. Quindi vi chiedo un grande applauso per Elie Schlein. Grazie. 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 Grazie mille. Come? Come va? Va abbastanza bene, tu? No. Faremo così tutta la sera. Sì, sì, no, non hai idea. Come, stanca? Come sta andando? Sta andando molto bene. Sta andando bene nel senso che siamo impegnati in un viaggio che ci fa attraversare il paese. Nell'ultima settimana credo di aver toccato da nord a sud almeno sei regioni, tre stati, perché poi siamo andati anche fuori, e poi una ventina di assemblee, comizi, quindi sì, andiamo avanti per inerzia, ormai a un certo punto ci fermeremo. Che stati? Siamo andati a Bruxelles la settimana scorsa e a Lugano l'altra sera, quindi anche oltre confine. Però è un bel viaggio, perché ovunque stiamo riscontrando tanta partecipazione, tanto entusiasmo, tanta voglia di ricostruire, quindi questa è la cosa più bella. Ah, ok. Da questa cosa che hai detto possiamo partire. Avremmo una tradizione col Mirto, mi hai detto che ti piace. Molto. Ok, allora. Ah, già. Allora, mi dici... Sono a stomaco vuoto, quindi non posso garantire il resto della sera. Sapessi quanto ne ho fatte? Ma poi se ne accorgono, cioè a un certo punto diventa evidente se sei a stomaco vuoto. Dici tanta partecipazione, lo dici perché va detto? Tipo c'è tanto entusiasmo? Sei come gli youtuber che fanno? Mi avete tutti chiesto di parlare di questa cosa, ma non è vero? Oppure effettivamente stai riscontrando questo entusiasmo? Perché io ho personalmente l'impressione, non so se sono io, che queste siano un po' le primarie meno, non entusiasmanti, meno entusiasmate della storia delle primarie. Nel senso che io ricordo molto la partecipazione ai tempi di Renzi, Civati, tutto quello del movimento lì. Dall'in poi un entusiasmo calante per la vita interna del PD. Tu la vivi così? Sì, nel senso che sicuramente veniamo da una dura sconfitta, da lì dobbiamo ripartire con umiltà. E proprio perché siamo in una fase difficile che è in controtendenza a quello che stiamo vedendo nelle tante assemblee che facciamo in giro per il paese, perché invece sono sale piene di speranza e soprattutto piene di persone che non hanno voglia di semplicemente affidarsi a una leader o un leader. Hanno colto il nostro messaggio che è quello di ricostruire una comunità politica che cammina insieme. Cioè, non stiamo chiedendo tanto un voto, punto. Stiamo chiedendo di contribuire a un progetto collettivo con le proprie competenze, con le proprie idee, con la propria passione, la determinazione. Cioè, l'idea è che un cambiamento così profondo come quello che oggi serve alla politica, al Partito Democratico dopo questa sconfitta, non passa di certo sulle traiettorie, diciamo, individuali, ma da una mobilitazione davvero collettiva. E quindi stiamo vedendo dappertutto una specie di ricongiungimento familiare. Cioè, da un lato ci sono persone militanti da sempre in quel partito, magari un po' in sofferenza, soprattutto perché non si sono più riconosciuti in alcune scelte, che oggi hanno voglia di riscatto e soprattutto hanno voglia di contare di più. Ecco, perché non è che se tu chiami le persone solo quando c'è da dare dei volantini alle campagne elettorali poi ti puoi aspettare che siano molto felici di partecipare. E dall'altra parte ci sono un sacco di persone che se ne erano andate deluse dagli ultimi anni e che oggi stanno tornando e hanno voglia di ricostruire. Ma forse la cosa più interessante sono persone che stanno arrivando molti giovani ma non solo che è la prima volta che mettono piede in un'iniziativa politica, in un'assemblea politica. E quella è la cosa più preziosa, cioè non tradire quell'aspettativa di partecipazione reale. Ed è chiaro che non è una cosa che fai solo in queste settimane di campagna fino alle primarie. Però io ci sto credendo molto, cioè ci sono delle a Lucca l'altro giorno ma anche a Bruxelles è stato così, tante persone che purtroppo rimanevano fuori perché non ci stavano e allora facciamo prima una discussione fuori e poi la facciamo dentro. Ok, quindi questa rassegnazione diciamo tu non la registri o la registri? Questa è una cosa interessante perché in realtà l'ho registrata molto di più durante la campagna elettorale di settembre. Cioè mi è perso proprio che mancasse motivazione, cioè che molti non sapessero più qual è la visione del futuro del paese che il partito cerca di portare avanti. Però in questo congresso invece sto vedendo una cosa diversa, cioè a me ha colpito che dal giorno dopo la sconfitta io ero depressa, mi stavo ancora leccando le ferite anche perché avevamo fatto una campagna comunque appassionata in giro per il paese e invece hanno cominciato ad arrivare dei messaggi un po' da tutta Italia di persone che già il giorno dopo il 26 hanno detto oh, adesso bisogna che ricostruiamo. Quindi è come se mi avessero dato un po' loro anche la forza di rialzarmi e di dire va bene, adesso cerchiamo di capire come possiamo ritrovare forza, ritrovare slancio, ritrovare credibilità per questo partito. Questa visione della quale tu parli, adesso ci entreremo piano piano per capire un po' quale è sia effettivamente la tua visione. stai cercando di trasmetterla immagino negli incontri che stai facendo ci sono degli elementi che in un qualche modo ti sono più richiesti? Cioè c'è a fronte di questo scoraggiamento che io io sento molto forte devo dire ci sono dei diciamo cavalli di battaglia sulle quali le persone ti chiedono di puntare quali sono? Diciamo che la nostra proposta la nostra visione è una visione che in realtà raccoglie e ascolta quello che si sta già muovendo da tempo nella società e soprattutto nelle mobilitazioni intrecciate delle giovani generazioni che già tengono insieme la lotta per il clima e contro lo sfruttamento del lavoro la lotta per il femminismo e la lotta diciamo contro ogni forma di discriminazione e razzismo e questo mi è parso di osservarlo nelle piazze che abbiamo visto in questi ultimi anni non solo in Italia anche attraverso ogni frontiera c'è una sovrapposizione importante è come se ci stessero indicando una via ed è la via della intersezionalità cioè della consapevolezza che ognuno e ognuna di noi può essere discriminato tante quante sono le sfaccettature delle nostre identità che sono molteplici e io questa cosa l'ho imparata quando sono andata a visitare un CIE quindi un luogo di detenzione per persone migranti dove c'erano 100 donne nigeriane ed era chiarissimo che quelle donne nigeriane fossero discriminate non una volta ma almeno tre in quanto donne in quanto donne nere e in quanto donne nere e povere migranti allora questo cosa ci suggerisce che noi dobbiamo unire quelle lotte e l'abbiamo visto quando andai a Londra alla Women's March on London vi ricordate dopo poco che si insediò Trump non era una piazza solo dei movimenti femministi c'erano i movimenti ecologisti c'erano i sindacati c'erano i movimenti in difesa della pace o dei diritti dei migranti ecco e questa riflessione mi sembra molto avanzata nella società e alla fine che cosa ci dice ci dice che non esiste giustizia sociale senza giustizia climatica cioè diseguaglianze e clima sono profondamente intrecciati e questo implica maggiore coraggio da parte di questo partito nell'affrontare ogni forma di diseguaglianza e al contempo lottare con serietà per una conversione ecologica vera che non sia greenwashing ma che provi davvero ad accompagnare tutta la società a ridurre le emissioni e ritrovare in qualche modo un equilibrio col pianeta quindi se ti devo dire quali sono i temi principali su cui stiamo impostando questa campagna sono queste tre sfide intrecciate per noi hanno la stessa parità chi fa le gerarchie tra i diritti sociali e i diritti civili di solito ha un problema o con gli uni o con gli altri o più spesso con entrambi e quindi noi vogliamo tenerle insieme queste sfide diseguaglianze clima e lavoro e soprattutto parole chiare e coraggiose sul tema della precarietà di come contrastiamo la precarietà perché sul mondo del lavoro forse si è prodotta la frattura più profonda tra il PD e le persone che vorrebbe rappresentare che non rappresenta più ma infatti mi colpisce un po' che dici questa cosa perché io ho loro lo sanno una sorta di ossessione per quello che tendo a chiamare il paese reale quando si parla del PD una delle critiche che viene mossa più spesso al PD è proprio che sia diventato il famoso partito delle ZTL che si sia allontanato dalle questioni e guardando appunto le tue interviste i tuoi interventi il tuo programma politico insomma ho visto che questi punti emergono molto spesso e mi chiedevo però è davvero così? cioè se noi la spacchettiamo la questione ad esempio partiamo dalla questione climatica una delle tante cose poi parliamo di tutto è vero che come dici la questione climatica è centrale e soprattutto si lega in qualche modo alle disparità che esistono nel mondo perché le persone più affette sono quelle più povere esatto però questo non è vero in Italia io sono convinta del contrario anche nel nostro paese è la stessa cosa pensa al caro energia al caro bollette che abbiamo vissuto in questi mesi anche per effetto di una nuova drammatica guerra criminale che è stata mossa nei confronti dell'Ucraina ecco è vero che il caro energia colpisce tutte le famiglie bollette triplicate quadruplicate colpisce tutte le imprese ma in una società così diseguale colpisce più duramente le fasce di reddito più basse certo perché hanno meno denaro per far fronte esatto quindi è la stessa cosa ma così come gli studi ci dimostrano che le persone più povere hanno il doppio della probabilità di vivere in contesti che sono fragili dal punto di vista idrogeologico quindi hanno più da perdere e sono più a rischio quando arrivano gli eventi climatici estremi quindi io credo che invece anche nel nostro paese sia così così come una politica che non sia in grado di accompagnare una vera conversione ecologica fa sì che ci siano delle realtà nel nostro paese di crisi industriali e climatiche che hanno posto lavoratrici e lavoratori davanti ad una specie di ricatto cioè a una falsa contrapposizione pensa Taranto tra il diritto al lavoro e il diritto a respirare un'aria che non ti faccia ammalare dove manca la politica succede questo no però quello che dicevo questo ha assolutamente senso per carità però mi chiedevo sul caro energia ok è evidente che sia così però quando tu poi parli al paese come dire quando io devo spiegare non devo spiegare un po' tanto devo spiegare devo cerco di affrontare il punto di vista di persone che non sono io perché poi io sono attivo in progetti di riforestazione quindi è evidente che mi interessi quel mondo però quando devo mettermi nelle scarpe di altre persone il gioco che faccio è cercare di capire quali siano le loro priorità se penso a una famiglia in difficoltà ad esempio economicamente in difficoltà che magari vive in periferia di cui si parla meno perché le periferie sono spesso meno raccontate anche non la periferia delle grandi città ma le grandi campagne nel nostro paese il costo della benzina è un mio problema principale rispetto alla persona che vive in città e quindi questo problema ce l'ha meno quindi se il PD partito a caso il PD uno a caso arriva e dice dobbiamo puntare sulla transizione ecologica questo ci costerà avrà un prezzo che dobbiamo pagare è anche comprensibile che qualcuno dice no io questa cosa non la voglio fare perché poi è un costo che pago io cioè l'aumento energetico è una questione che pago io è come la guerra la guerra poi magari ne parliamo approfonditamente però capisco chi dice no vabbè però chi se ne frega perché lo pago io e secondo me è lì che il PD io ho l'impressione che il PD non dia delle risposte concrete a parte che a quelli che ci chiedono chi pagherà la transizione ecologica bisognerebbe ribaltare la domanda chi è che sta già pagando la non transizione perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti facciamo un esempio conosci la vicenda del lago Chad che era il settimo per superficie al mondo incastonato tra alcuni paesi africani e negli ultimi decenni per effetto del riscaldamento globale il lago si è sostanzialmente decimato costringendo alle migrazioni forzate o alla povertà ma centinaia di migliaia che vivevano in equilibrio con l'ecosistema che quel lago forniva commerciando sale tra le altre sponde con l'agricoltura e l'allevamento che quell'acqua forniva ecco il paradosso ingiusto è che chi sta pagando più alto il prezzo dell'emergenza climatica sono le popolazioni che hanno meno contribuito a causare quell'emergenza climatica però ti dico è vero che noi dobbiamo far sì che questa conversione non la paghi chi sta già pagando l'impoverimento a causa della crisi economico-finanziaria è per quello che noi parliamo di una conversione giusta cito spesso le parole di un pensatore estremamente lungimirante che purtroppo non c'è più che diceva che la conversione ecologica avverrà quando apparirà socialmente desiderabile era Alexander Langer uno dei fondatori del pensiero ecologista europeo quella desiderabilità la devi costruire in politiche concrete un esempio efficientare dal punto di vista energetico le case popolari serve perché permette di abbassare le bollette alle fasce più povere ma anche di abbassare le emissioni prodotte da un patrimonio edilizio che è particolarmente vetusto e quindi particolarmente inquinante da questo punto di vista emette molto al contempo se tu fai una politica come abbiamo provato a fare durante gli anni di pandemia quando ero vicepresidente della regione Emilia Romagna per rendere gratuito il trasporto pubblico locale dei giovani diciamo delle fasce economicamente più svantaggiate realizzi queste due cose insieme fai risparmiare 600 euro a una famiglia che ne ha bisogno e dall'altra parte però crei una cultura di una mobilità altra sostenibile meno inquinante che non è quella di prendere l'auto ogni volta che devi andare a scuola o devi andare a fare la spesa quindi la società per questo dico che va accompagnata a partire dalle fasce più fragili quel trasporto pubblico locale gratuito l'abbiamo reso tale anche per le persone senza dimora perché pure le persone senza dimora hanno diritto alla mobilità sostenibile quindi è verissimo quello che dici però c'è anche una grande ipocrisia perché siamo un paese che non lo dice mai ma spende 22 miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi ecco gli ribalterai davvero la domanda perché spendiamo non è un'assurdità ma sono diversi tipi di sussidi ad esempio alle fonti fossili a chi produce fonti fossili ai carburanti ecco perché invece non si investono quelle risorse per accompagnare lavoratrici e lavoratori ad assumere nuove competenze nei settori della conversione ecologica e anche della trasformazione digitale perché non li usiamo per accompagnare le piccole e medie imprese a innovare i propri processi grazie alle nuove tecnologie in modo anche da ridurre l'impatto negativo sull'ambiente ecco questa è una strada che in realtà è doppiamente conveniente pensa all'economia circolare Alessandro sì però cioè io lo capisco il discorso mi sembra che però sia estremamente complicato poi da trasmettere politicamente cioè i numeri del PD adesso non voglio parlare la stai infierendo però mi sembra che raccontano un po' questa storia no? cioè è facile ragazzi però raccontano un po' questa storia di un distacco della popolazione da queste tematiche anche perché c'è anche un discorso di colp nel senso io lo capisco uno che dice sì però non è colpa mia che il lago in Chad cioè sto facendo molto l'avvocato del diavolo che è il mio gioco preferito è giusto che tu lo faccia però la verità è che in realtà noi siamo la parte del mondo che ha contribuito maggiormente all'emergenza climatica poi chiaramente non ti dico che è la conversazione più facile da avere ma magari il partito democratico avesse fatto queste battaglie in questi anni magari intanto non si sarebbe prodotta una frattura così profonda con quelle ragazze e quei ragazzi che manifestano negli scioperi per il clima e che non vedono oggi nel PD un interlocutore una casa dove fare queste battaglie e la stessa cosa potrei dirti sul lavoro perché sicuramente tra i temi su cui raccogliamo una maggiore esigenza di chiarezza c'è quella del lavoro e allora bisogna scegliere siamo quelli del job set o siamo quelli di un contrasto serrato a ogni forma di precarietà perché c'è una bella differenza se tu vedi oggi che il 62% dei lavoratori e delle lavoratrici sotto i 24 anni conoscono solo contratti a termine solo contratti precari io credo che siano queste le conversazioni che si hanno a tavola a cena nelle famiglie che oggi sono più in difficoltà e sono persone che spesso subiscono pure la retorica paternalista della politica che magari li prende in giro perché escono tardi di casa senza vedere che per chi ha la nostra età tra i 24 e i 34 anni per almeno il 15% non si arriva a 900 euro al mese hai voglia di uscire di casa in una città come quella in cui siamo dove con 900 euro al mese non ci paghi un affitto se ci trovi un affitto non ci paghi le bollette non ci paghi le spese di cosa stiamo parlando allora una delle richieste maggiori che ci fanno è proprio di ritrovare chiarezza di essere quelli che dicono no basta mettiamo un limite ai contratti a termine come hanno fatto in Spagna dove finalmente riprendono le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani allora io credo che questa fase di discussione verso le primarie serva esattamente a ritrovare un'identità chiara comprensibile fondendo però insieme questi temi perché tu hai ragione è una discussione difficile quella di spiegare perché abbiamo bisogno di non distruggere il pianeta sarebbe anche abbastanza banale però in realtà però poi ognuno ha i suoi problemi ognuno ha i suoi problemi ma riuscire a tenerli insieme è parte della nostra lotta perché se si tengono a compartimenti stagni queste lotte le perdiamo tutte e solo se noi riusciamo ad unirle riusciamo a cambiare davvero questo modello di sviluppo perché non è successo per caso diciamoci la verità se siamo arrivati qui è perché il modello di sviluppo attuale vuole le diseguaglianze perché se ne nutre e al contempo sta distruggendo in modo del tutto insostenibile il nostro pianeta quindi noi abbiamo la responsabilità di cercare di salvare questo pianeta anche per salvarci perché lo stiamo rendendo completamente inabitabile per le prossime generazioni cosa intendi con questo modello di sviluppo si nutre delle diseguaglianze? beh che queste scelte che hanno impoverito e frammentato il lavoro e l'hanno reso più precario cioè non è successo per caso ci siamo sbagliati è successo perché le politiche fatte in questi ultimi 10-20 anni sono andate in quella direzione lì quella di cercare di competere con il resto del mondo abbassando i salari e abbassando le tutele del lavoro l'Italia è oggi uno dei paesi in Europa dove i salari sono più bassi ma non perché si sono abbassati è perché non si sono alzati cioè nessuno ha abbassato i salari su questo potremmo discutere lungamente diciamo che sai perché l'Italia non ha ancora una legge sul salario minimo che dica che sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento questa è una scelta non farla è stata una scelta perché in altri paesi c'è il salario minimo in Spagna l'hanno appena rialzato per effetto anche dell'inflazione beh in realtà bisognerebbe chiedere ai sindacati questo perché c'è la contrattazione nazionale nel senso a me sembra che ogni tanto su quella questione dei salari sia sempre un buttarsi addosso le responsabilità perché non abbiamo il salario minimo e uno può rispondere perché abbiamo la contrattazione nazionale qualcun altro risponde in genere sì però i contratti collettivi nazionali fanno schifo e quindi spesso permettono delle situazioni in cui i lavoratori vengono pagati poco quella di chi è responsabilità? le responsabilità sicuramente sono condivise ed è una discussione che stiamo facendo anche con i sindacati ma il punto di equilibrio qual è? quello di dire che oggi troppo lavoro povero non è protetto dalla contrattazione collettiva allora cosa vuol dire che la prima cosa è facciamo una bella legge sulla rappresentanza a cosa serve una legge sulla rappresentanza? è molto semplice noi abbiamo più di 900 tipi di contratti in questo paese è surreale la gran parte di quei contratti sono firmati da organizzazioni non rappresentative di nessuno cioè sono contratti fatti per produrre precari allora se tu fai una legge sulla rappresentanza riconosci naturalmente chi può effettivamente siglare quei contratti e spazzi via quei contratti pirata che condannano interi settori dell'economia alla precarietà questo è rafforzare la contrattazione collettiva estenderne gli effetti verso tutte le lavoratrici e lavoratori ma anche non per sostituirla ma per complementarla fissare una soglia che noi proponiamo ad esempio a 9,50 euro sotto la quale non si può scendere perché comunque sei protetto per legge dal fatto che sotto quella soglia non è lavoro è soltanto sfruttamento certo che devi discuterle e poi si lavora in nero guarda c'è anche questo problema nel senso che tu non hai l'impressione detto tra noi tramette no come se tramette non so cosa non so cosa ti riferisci dimmi ogni volta che si parla di lavoro mi sembra che si parli di un paese che non è l'Italia cioè che no ma veramente nel senso tutti sappiamo come funziona questo paese tutti sappiamo che esistono le partite IVA finte certo sappiamo che si fanno gli straordinari in nero sappiamo che si fa tutto in nero sappiamo che adesso parlo non per esperienza ma potrebbe essere capitato recentemente a qualcuno che conosco che fa lo youtuber di lavoro che mi aggiusta questo macchinario sì posso pagare col post però allora l'iva vabbè pago l'iva mi serve la fattura ma sicuro che non vuole pagare i contanti la faccia uno sconto 50 senza oppure questo è un grande classico purtroppo sì e fa parte del mondo del lavoro in Italia quindi se facciamo quello che dici tu quindi giustamente io sono d'accordo alziamo i salari mettiamo un tetto è come se un po' ignorassimo che un'enorme parte di quel mondo di lavoro povero è in nero c'è anche questo problema sicuramente ma così come c'è un problema forte di evasione fiscale in questo paese però non mi convincerai mai che allora non valga la pena fissare maggiori tutele per il lavoro e alzare il salario cioè comunque è come se noi per smettere di fumare ci tagliassimo un braccio nel senso è chiaro che poi devi aumentare i controlli e naturalmente utilizzare di più anche gli strumenti del digitale che è il contrario se ci pensi di quello che sta facendo questo governo perché il governo invece alza il tetto del contante quindi lascia più spazio per il nero sfondi una torta che non c'è un portone un portone quindi certamente noi diciamo dobbiamo affinare quegli strumenti mi sembra che purtroppo non sia tra le priorità di questo governo che invece strizza l'occhio a chi evade e questo tra l'altro fa concorrenza sleale verso tutti quegli imprenditori quei professionisti onesti che poi devono pagare le tasse anche per gli altri allora se le vogliamo diciamo davvero abbassare è intanto importante che tutte e tutti le paghino queste tasse perché effettivamente non tornano i conti ma così come se guardi l'elefante in questa stanza non ne parla mai nessuno in Italia noi abbiamo un'unione europea dove stanno i paradisi fiscali senza palme cioè legalmente ci sono multinazionali che riescono a pagare lo 0,005% di tasse grazie ad accordi con governi che pensano di essere così furbi da fregare i loro vicini di casa allora nel senso non è d'accordo adesso non vorrei scoprire no nel senso allora questo è vero facciamo un framing però ho due obiezioni due obiezioni la prima è non sono tecnicamente paradisi fiscali sono semplicemente dei paesi che decidono di applicare una tassazione inferiore cioè non è non ci sono tasse tipo l'Irlanda però l'Irlanda è l'Unione Europea ma le tasse sono più basse nel senso c'è anche una competizione tra stati esatto ed è una competizione fratricida ah quindi tu vuoi tasse cioè nel senso vorrei che ci fosse un'armonizzazione del sistema fiscale europeo tale per cui si pone fine a questa corsa a ribasso sfrenata che poi fa arrivare alla cifra che ti dicevo prima lo 0,005% e non sono parole mie sono parole della Commissione Europea che ha provato a dire che visto che si era arrivati lì bisognava diciamo fare pagare una multa alla multinazionale perché sostanzialmente quello era il bilancio di un anno in Irlanda e l'Irlanda cosa ha detto? No perché l'Irlanda preferiva continuare su quella strada sono due temi diversi però perché l'Irlanda ha diciamo una tassazione attorno al 12,5% per le imprese ed è una delle più basse allora io dico non è che ci pensiamo che l'Europa nelle sue diversità possa avere le stesse aliquote in tutti i paesi ma dovremmo avere una tassazione minima armonizzata sotto al quale non si può andare e al contempo dire occhio a quegli accordi di tassazione anticipata che sono quelli grazie ai quali si arriva poi magari a delle aliquote effettive che sono allo 0 virgola ok però aspetta allora rimaniamo un attimo sullo 0 virgola perché anche lì c'è la seconda objection però torniamo un attimo sull'Irlanda cosa fai? vai e dici eh raga dovete alzare tantissimo la tassazione perché dovete arrivare al nostro livello perché tanto noi cioè trovi come si fa sempre in Unione Europea una soglia di compromesso diciamo che noi proponevamo peraltro al 18 quindi vuoi abbassare le tasse e l'Ischlein vuole abbassare le tasse è la verità articolo su Open dopo il titolo di libero dell'altro giorno però io sono contenta vale tutto guarda ci deve essere un punto di mediazione tra il 30-40% Francia Germania Italia e il 12,5% chiaramente e appunto noi non proponevamo il 27 ma il 18 come tassazione minima sotto il quale non andare però guarda sono più preoccupata da quegli schemi elusivi dai nomi particolarmente creativi che sembrano un cocktail del sabato sera tipo il Double Irish visto che ti piace l'Irlanda che è stato già mezzo spacchettato il Double Irish esatto ma vedi fatta la legge lo sappiamo solo noi di cosa stiamo parlando però esiste perché sono uno youtuber pago le tasse esatto mi sto inguagliando da solo ed è scappo va bene e adesso parliamo di meteo allora dicevo no che il Double Irish era un sistema che è stato effettivamente però fatta la legge si trova sempre l'inganno adesso ce ne sono anche di altri di sistemi tramite cui tu riesci effettivamente a decidere quante tasse pagare io penso che il principio debba essere semplice le tasse si pagano dove si fanno i profitti e non dove conviene perché sono riuscito a spostare il brevetto la proprietà intellettuale ho fatto delle società fantasma cioè io credo che serva questa armonizzazione e questa trasparenza c'è uno strumento Alessandro che per cui mi ero molto battuta in Unione Europea che poi è stato approvato in questi anni che fa sempre sorridere perché si chiama CBCR che a scuola da noi voleva dire un'altra cosa infatti devi sempre lasciare il momento per la sera il CBCR in realtà vuol dire country by country reporting cioè un sistema di rendicontazione stato per stato che chiede a chiunque voglia operare nel mercato europeo che è un mercato allettante perché siamo 500 milioni deve dirci in ogni paese dove opera quanti profitti fa quante tasse paga quante diciamo sedi ha e quanti lavoratori e lavoratrici impiega te la banalizzo questa è una misura di semplice trasparenza non ha grandi costi per non dire quasi nessun costo per le aziende e però mi permette di vedere chi sta fregando chi perché alla fine cioè chi riesce a evitare di pagare le tasse in modo proporzionato a quello che guadagna ci guadagna però ci perdono gli stati ci perdono i cittadini perché poi ci vengono a dire eh non ci sono i soldi per le pensioni i servizi l'istruzione la sanità non ci sono i soldi ok però aspetta aspetta freniamo ancora un attimo perché questo discorso di pagano poche tasse le aziende ogni tanto secondo me non è chiarissimo che si parla spesso di grandi gruppi multinazionali no quello sicuro ok allora mi sembra di capire che non ci siano le tue cose preferite su qua i gruppi multinazionali no no io non ho nessun problema con loro però io ho un problema loro magari avranno un problema con te però se fai così no magari non è una mutuale simpatia non ho nessun problema con chi capisce che per me vale il principio che sta nella costituzione italiana che si chiama progressività fiscale è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere di tutta la società cosa che peraltro in Italia non succede e non sono le multinazionali ma torniamo un attimo sulle multinazionali non fammi difendere le multinazionali fammi dire che sta cosa perché poi ti dice sempre che io difendo le cose incredibili l'altra volta stavo difendendo il capitalismo cioè non fa diventa una roba spesso quando si dice pagano solo lo zero virgola è perché si pensa cioè sono sono guadagni non espressi cioè sono spesso ad esempio quando si dice Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo però non paga le tasse in realtà è perché lui ha degli asset enormi tipo le azioni di Tesla banalizzo sulle quali non paghi tasse sinché non vendi quelle azioni o non maturi dei dividendi ora non voglio è noiosissimo però questo 0,08% che le super aziende eccetera pagano non pagherebbero questi che tu chiami paradisi fiscali spesso non sono neanche tassabili cioè non sono non è denaro che poi a un certo punto scompare sono questioni sono questioni sicuramente complesse però non sarebbe meglio per tutti se fossero un po' più chiare e un po' più omogene in tutta Europa io dico semplicemente questo no è che spesso non sono proprio liquidi ho capito il caso che ti citavo è il caso della Apple no sì che è stato segnalato appunto dalla commissione europea che aveva chiesto insomma di ritornare diciamo una cifra molto importante cosa che aveva fatto anche in altri casi ad esempio sullo scandalo del Lussemburgo dove era amerso che c'erano molte aziende più di 300 se non ricordo male che riuscivano a ottenere delle agevolazioni molto forti e secondo la commissione europea quelle agevolazioni molto forti ponevano un problema dal punto di vista della concorrenza perché in questo modo è chiaro che ci sono dei grandi gruppi che riescono a pagare nel singolo paese ti dico meno tasse di quanto non paghi una fabbrica di matite in periferia di Torino quindi è chiaro che io lì ci vedo un problema perché le stime cosa ci dicono che lì obiettivamente c'è anche una parte di profitti che invece con un'armonizzazione fiscale europea sarebbero da tassare ok 800 circa miliardi ma sono stime da prendere con le pinze le fa Richard Murphy un professore che si occupa di questi temi da prendere con le pinze perché sono fenomeni appunto sommersi quindi non è mai facile fare una valutazione se anche fosse la metà di quella cifra è la metà di quello che l'Unione Europea ha messo nel famoso next generation EU quindi io credo che sia un tema da guardare con grande attenzione con strumenti appunto di trasparenza perché per le banche l'hanno già dovuto fare il CBCR e non ne ho vista nessuna chiudere per un po' di trasparenza in più ok peraltro che è sto CBCR nelle scuole cioè io non so di cosa stiamo a fare dopo un po' mi sento di come ti dicevo è semplice trasparenza tu mi dici voglio lavorare in Europa benissimo allora ti dico per ogni paese ti dico quanti profitti faccio e quante tasse pago no quello è il CBCR il CBCR mentre quello ah quello vero per cui tutti avete riso perché io non lo so ma non lo sai davvero no si diceva a scuola quando uno diciamo si diceva CBCR quando chi è? allora vediamo come si fa a dire in modo politicamente corretto questa cosa quando passava diciamo una persona più giovane di te di bell'aspetto ok tu dicevi CBCR vuol dire cresci bene che ripasso ok ma non troppo più giovane non troppo più giovane comunque è una cosa intergenerazionale perché ogni volta che parlo di questi temi cioè ridono persone di cinque generazioni diverse ok almeno quelle che avevano la smemo perché poi non so se non c'è più la smemo ci saranno altre cose a me nessuno l'ha mai detto quindi capisco evidentemente non c'era questo grande interesse non è che le multinazionali si lo so che è un arbus diventano un po' lo scapegoat come si dice il come si dice ragà capri espiatorio il capo noi imprenditori al top parliamo solo così per perché è un po' facile nel senso non c'è la multinazionale che ti vota e quindi andare a cercare voti dicendo attacchiamo quelli beh no veramente io diciamo non ho nessun problema se vuoi a prendercela con i fatturati spaventosi che fa la mafia in questo paese spesso indisturbato da una politica che non però di nuovo nel senso che è stata anche molto convivente attacchiamo delle cose un po' cioè se io tu non andresti in una piazza a dire vabbè sapete cosa adesso tassiamo le piccole e medie imprese perché voglio dire la tassazione è già piuttosto elevata in questo paese il problema è chi non le paga affatto poi ci saranno naturalmente anche ci sono gli evasori anche diciamo nazionali che non hanno i grandi gruppi che fanno evasione fiscale anche quello è un tema su cui si può fare molto su cui in alcuni paesi la digitalizzazione ha fatto molto ci sono stati dei modelli interessanti di fisco allora si chiamava 2.0 che riusciva a rendere anche conveniente tracciabile diciamo il pagamento digitale di modo che si potesse anche contrastare effettivamente l'evasione fiscale chiaramente c'è da fare anche questo ma guarda io non è che sono una che teme l'impopolarità al punto che sono anni che dico che non abbiamo delle politiche migratorie serie in questo paese e quindi diciamo fare battaglie diciamo controcorrente se sono giuste è parte di ciò che deve fare una sinistra degna di questo nome no verissimo verissimo io penso che quello sia molto la forza che sta caratterizzando la tua campagna però di nuovo tornando al paese reale che bello che viene da sempre le stesse cose ma ad esempio io faccio un imprenditore ho dei dipendenti quindi so più o meno come funziona ragazzi devo un attimo parli di aliquote abbiate pazienza è terribile però questo paese è trascinato da un piccolo gruppo di persone che paga molte tasse e poi ci sono tante altre persone che ne pagano poche 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 a parte il nero che comunque fa parte del discorso questo governo non ha aiutato perché ha alzato i limiti per la famosa flat tax sbagliato ma adesso lo dico io sbagliato ma c'è proprio un discorso di facilitazione del nero banalmente sono il professionista so che devo fatturare fino a 80.000 mi fermo a 79.99 tutto il resto in nero questa cosa succede sempre succede continuamente non c'è un partito che dica dobbiamo aggredire questa struttura dobbiamo togliere i scaloni e fare una tassazione veramente progressiva beh dobbiamo costruirlo quel partito lì perché quando l'IRPEF è stata costruita e pensata c'erano 32 scaglioni adesso ce ne saranno 4-5 a proposito di flat tax mi sembra che il sistema si sia già abbastanza appiatito tutto a svantaggio della progressività fiscale che è ciò che regge invece anche i sistemi fiscali più civili ecco che ci sono in altri paesi Europa quindi io non ho nessun problema a fare esattamente questa battaglia che però significa che le persone che ti sentono dicono oh oh ma io non voglio pagare il 40% di tasse voglio pagare il 15% come faccio adesso io penso che tante persone abbiano capito che quella idea della flat tax nasconde una fregatura grossa come una casa cioè dire che io le abbasso a tutti vuol dire che io le abbasso anche a chi se lo può permettere cioè alle persone più ricche e abbassare le tasse alle persone più ricche di solito fa succedere una cosa fa mancare i servizi alle persone povere ecco lo dico perché chi propugna la flat tax è magari qualcuno che quando ha bisogno di sanità può permettersi di affittare un intero piano di un ospedale magari proprio in questa città ecco noi ci dovremmo occupare del restante 99,9% della popolazione italiana e quindi difendere la sanità pubblica soprattutto visto che rischia di essere ulteriormente tagliata e privatizzata e difendere la scuola pubblica perché non so se ti sarà sfuggito che cosa sta succedendo in questi giorni cioè abbiamo un ministro del merito che parla di merito prima di dire che a tutte e tutti i bambini italiani bisogna garantire pari opportunità di accesso a un'istruzione di qualità abbiamo qualcuno che l'altro giorno proponeva di insegnare il tiro a segno diciamo è stata un po' rivista questa cosa intanto sono due giorni che se ne parla io grosse smentite vere diciamo non ne ho sentite però il tema è questo cioè vogliar rimettere nelle mani delle giovani generazioni i fucili o il futuro perché io vedo un problema se questo paese non crede più nella scuola come elemento diciamo di sblocco di quell'ascensore sociale dentro cui si sta soffocando e poi i risultati si vedono perché siamo quelli che hanno meno laureati siamo quelli insomma allora io credo molto invece che avrà il sapore antico ma sono grandi battaglie che la sinistra deve fare con orgoglio e con coraggio semplicemente perché dove abbiamo rinunciato a queste battaglie la situazione del paese non è migliorata è peggiorata guarda i dati della povertà visto che noi abbiamo oggi dati di povertà assoluta che sono più alti diciamo rispetto al 2005 è come se il paese avesse fatto un grosso balzo all'indietro di 15 anni vogliamo occuparci di questo oppure far finta di niente però quindi gli strarichi non ti votano e sono una persona un po' pragmatica gli strarichi non ti votano e va bene ok però sono l'1% c'è il resto dei 99 su cui lavorare poi gli indipendenti diciamo le persone con la partita IVA insomma un po' dipende lì c'è molte persone che hanno la finta partita IVA ma quelli sono un altro discorso ma i professionisti non ti votano perché loro vogliono tutti la flat tax secondo te beh se a me non farebbe schifo cioè sinceramente allora prima aveva detto che era sbagliata poi no perché sto evil shy sto giocando la versione cattiva di me stasera però allora da un punto di vista etico ti ricordi l'angelo di auto ti ascolta da un punto di vista etico evviva le tasse a me piace poi ovviamente quando pago gli F24 non è che sto dicendo ah 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 come mi sento bene che bello però cioè capisco anche la cioè se il governo mi dice guarda non mi devi dare più tastra ma mi devi dare solo questo io dico vabbè questo è umano e comprensibile da parte del governo però è sbagliato illuderti che così il paese starà meglio perché poi da qualche parte eh ma dico la signora Schlein mi dice però questo te lo tolgo mi voti eh guarda diciamo così devo ancora diciamo sicuramente affrontare il tema della diciamo delle multinazionali che vanno ai seggi delle primarie del PD probabilmente non voterebbero per me quindi tutto lo finanziamo con le multinazionali insomma ma poi non bisogna fare di ogni erba un fascio cioè per fortuna ci sono anche grandi imprese che non adottano sistemi elusivi che permettono peraltro in modo illegale quindi io non è che ce l'ho tanto con loro ce l'ho con il sistema politico che ha permesso che la ricchezza si concentrasse eccessivamente in poche mani no ma certo è che poi ognuno vota col portafogli sarà anche vero questo però non mi convincerai comunque a essere contro i migranti a favore diciamo di più mi scusi ma io non l'ho detto guarda che è un ragionamento tira l'altro nel senso è chiaro che in questo momento è un paese che su questi temi c'ha una chiusura piuttosto netta però secondo me invece bisogna fare una grande operazione di verità per spiegare che non conviene a nessuno avere delle politiche migratorie che sono così assolutamente folli e ingiuste ok ci sto ho paura di cosa potrei dire su questo tema no perché alla fine non è che possono arrivare tu l'Africa è grande l'Italia è piccola faccio come il briatore che aveva messo il libro non ci stanno tutti non funziona così non così no mi chiedevo ho visto altre interviste in cui ti è stata fatta questa domanda però se la faccio io ovviamente è meglio ti viene spesso richiesto qual è la differenza tra te e Bonaccini ora siete tu e lui in testa a testa ok tu hai la percezione che lui la sua candidatura sia percepita come più pragmatica della tua ma lo so sicuramente siamo molto diversi dal punto di vista della linea politica e anche del metodo oltre che del profilo ecco per cui saranno le elettrici e gli elettori a valutare che tipo di guida serve oggi al PD saranno no io ho la percezione che siamo entrambe persone che hanno fatto insieme un'esperienza amministrativa tosta in mezzo a una pandemia quello che ha permesso anche a me di tradurre la visione in politiche concrete che migliorassero o tentassero ecco di migliorare la vita delle persone e del pianeta e che non è su quel terreno che si gioca lo scontro di queste settimane anche perché voglio dire una cosa io non credo che ci serva né un partito degli amministratori a parte che l'avevo già sentita ma soprattutto essere amministratori non è una linea politica e io credo che oggi al PD serva fortemente una linea politica chiara perché non puoi essere né carne né pesce così ostinatamente cioè se sei tutto il contrario di tutto va a finire che alla fine non rappresenti più nessuno e io colgo la tua prima domanda perché è vero che in questi anni si è fatto fatica a capire chi volesse rappresentare il PD e che cosa stesse proponendo per il paese quindi io sento soprattutto questa esigenza di fare chiarezza e di trovare coraggio sui temi su cui qualcuno si aspettava che il PD dicesse qualcosa che non è stato detto ma probabilmente perché il PD fatica a esprimere una leadership netta ma anche proprio nel senso dell'interprete perché quello che si ha come percezione esterna diciamo poi tu manchi da un po' di tempo nel PD quindi comunque possiamo dire che anche tu sei semi esterno nel senso che sei appena rientrata sono reiscritta a dicembre sì sono state sette anni fuori l'idea che il PD da sono sicuro che sia così è che odì il suo leader cioè il PD esprime un leader però all'interno del PD controlla tutte le correnti cioè ogni numero due diciamo cerca di accoltellare il numero uno è così cioè è un'altra cosa che è così no perché effettivamente il PD è proprio caratterizzato da queste forti lotte interne che tendono a far fuori il leader che è poi il problema perché il leader è quello che dovrebbe dettare la linea il punto è che dettare la linea vuol dire che la devi dettare ai capicorrenti è una roba un po' non lo so come l'eliquota ragazzi però secondo me è peggio dell'eliquota possiamo renderla un po' più piratesca tipo posso usare delle terminologie il capitano il moz non lo so però la verità è questa cioè tu domani diventi la leader del del partito democratico ti trovi effettivamente all'interno di un sistema che è fatto di persone che a parte che non ti vorranno lì sostanzialmente non ti vorrebbero lì ma che cercheranno di indirizzare il partito d'altra parte cioè si inizia a litigare subito come fai a c'è solo un modo per farlo un'ondata di partecipazione che travolga le correnti e che possa cambiare gli equilibri anche interni al partito cioè alla fine dei conti la politica è una cosa molto semplice conta la capacità di costruire consenso attorno a delle idee dopodiché bisogna essere molto fermi nel sapere da chi ti fai accompagnare ma io se sono sopravvissuta in questi sette anni nella giungla perché adesso il PD tutte le criticità che possiamo dire ma non è che fuori dal PD le dinamiche siano molto migliori anzi di solito sono partiti più piccoli e quindi di per sé anche abbastanza più cattivi diciamo dentro il ceto politico allora se sono sopravvissuta è semplicemente perché mi sono tenuta stretta la mia autonomia la mia libertà e soprattutto ho sempre rifiutato le logiche di cooptazione che sono quelle attraverso cui le correnti poi al momento in cui c'è da fare le liste pretendono di dire la loro allora come fai devi cambiare non solo la visione ma devi cambiare anche il gruppo dirigente perché non possono essere sempre gli stessi a farsi interpreti della stessa diciamo ma come fai alla parte che ci stiamo candidando e diciamo la candidatura è stata soprattutto un appello alle persone libere che sono rimaste schiacciate da quelle logiche come ho rischiato di fare io tante volte voi ho fatto tipo Trinity come ti dicevo prima no in Matrix no ok ecco ma c'è una miriade di giovani e donne che sono rimasti schiacciati o respinti da quelle dinamiche e che oggi stanno provando a cui noi stiamo provando ad appellarci per dire oh questa è casa nostra la possiamo ricostruire insieme se siamo tante tanti scalziamo quelle dinamiche e poi vuoi un esempio concreto io penso che vada cambiata la legge elettorale perché è una legge elettorale pessima che non garantisce nessun rapporto tra i rappresentati e i rappresentanti e penso e penso che questa discussione Alessandro la dovremmo fare adesso non aspettare a tre mesi prima delle prossime elezioni per sentirci dire che poi è troppo tardi per cambiare la legge elettorale penso che finisco su questo penso che è una legge elettorale che anzitutto dovrebbe sanare una grande ingiustizia cioè far votare fuori sede perché abbiamo escluso dal voto 5 milioni di milioni però questa era la premessa questa era la premessa guarda è facile facile basta guarda si incardina se c'è la volontà politica anche dalla maggioranza e ci stiamo lavorando perché non deve essere una roba di parte ci arriviamo finché ci sono le liste bloccate vuoi evitare i meccanismi correntizi è molto semplice fai le primarie per i parlamentari come ha fatto Bersani nel 2013 ok e io lo dico perché vorrei essere una segretaria del PD a cui il gruppo dirigente che viene eletto non deve niente vedrai che cambia tutto se tu ti circondi di persone competenti anziché di quelle più fedeli alla capa o al capo di turno e lo dico a me per prima ok c'è qualcuno che ha cercato di fare un applauso e non ce l'ha fatto è uno che è rimasto fuori dalle liste è lui è rimasto fuori dalle liste l'ultima volta ci sono meccanismi veri però c'è un però nel senso ce ne sono tanti se no non saremmo dove siamo oggi permetti mi hanno perso 7-8 milioni però ad esempio si parla molto spesso lo dico proprio chiaramente di una tua vicinanza ad esempio alla corrente di Letta e di Franceschini cioè è una cosa che io ho sentito ripetere molto spesso ma non è che è una bugia se viene ripetuta 150 volte la verità diciamo Letta ha modificato la il sistema di presentazione delle candidature per far cioè permettendoti di candidarti anche questa è una narrazione falsa però voglio dire sono stati no no allora correggimela sono stati molto abili quelli che l'hanno spinnata ok perché facciamo un po' di chiarezza lo spieghiamo così lo spieghiamo le persone quello che io vedo è che effettivamente tu non eri nel PD inizialmente chi si era appena iscritto non poteva candidarsi alle primarie c'è stato un cambio nelle meccaniche questo è vero no c'è stata una modifica dello statuto fatta da Letta che ha permesso effettivamente candidature anche a chi aveva appena preso la tessera cioè tu è un caso cioè nel senso è un caso allora quella modifica del regolamento è stata fatta per permettere diciamo un congresso costituente in cui diciamo potessero partecipare anche persone che fino a quel momento non erano state il PD ma io avrei potuto benissimo candidarmi comunque mi bastava prendere la tessera prima della diciamo direzione che ha fissato il regolamento congressuale che penso che sia arrivata molto dopo il momento peraltro in cui io mi sono effettivamente iscritta quindi è un falso problema Enrico Letta è una persona con cui ho lavorato bene perché è un segretario del PD forse il primo diciamo che ha cercato di coinvolgere in modo strutturale chi era fuori e aveva un contributo di idee da portare si è fatto questo grande processo delle agorà a cui hanno partecipato circa 100.000 persone in tutta Italia e che ha aiutato a costruire il programma di settembre che era senza dubbio il programma più a sinistra che il PD avesse mai presentato solo per questo ha permesso a me ed altri come me e della mia posizione di candidarci in quella lista questo è vero però giustamente Letta è segretario uscente che ha detto che lui sarebbe stato diciamo imparziale e devo dire ma perché l'ha fatto in che senso perché ha fatto questa modifica cosa ha portato in più perché evidentemente voleva allargare la partecipazione del partito perché se fosse bastato quello che è il PD fino a qui magari non avremmo perso così male le elezioni del 25 di settembre ok cioè c'è una consapevolezza di non autosufficienza e di necessità di un forte rinnovamento dopodiché lui giustamente è rimasto imparziale e ci mancherebbe rispetto a questa sfida le persone più vicine a lui hanno scelto altre candidature così come invece io sono felice che ci sia chi pur appartenendo a una storia diversa abbia deciso di supportare me però ti ribalto la questione perché io ho un timore qui perché ai candidati uomini questa domanda non viene fatta perché io ho il timore che ci sia uno sfondo un po' sessista che pensa che non ci possa essere una donna giovane che si fa strada da sola senza farsi strumento di altri lo dico l'applauso per in generale lo dico perché io sono felice e voglio ringraziare chi come Franceschini ha fatto parte del gruppo dirigente e adesso ha capito che serve un rinnovamento netto e radicale così come sa che io a tutti ho detto una cosa io non mi siederò al tavolo diciamo delle stanze a fare le liste con i bilancini per le correnti attuali questo sarebbe stata la mia domanda perché al netto guarda la differenza sta tutta nel metodo e io ti ho già detto prima che secondo me invece bisogna far sì che ci siano degli strumenti anche di selezione delle candidature che recuperino il rapporto che è venuto meno con l'elettrice e gli elettori perché quello dà la forza a un gruppo dirigente che non deve niente a qualcuno che magari li ha messi nelle liste ma perché è arrivato lì con le proprie forze con le proprie reti con il proprio consenso territoriale ecco io ci credo molto però nella scelta delle leadership diciamo anche locali cioè a un certo punto ci sono delle figure che rimangono molto tempo all'interno dello spazio ed esercitano una forza molto grande nei territori quindi l'idea di arrivare a spazzare tutti via che era di un altro partito diciamo che voleva insomma fare pulizia e sarebbero spazzati via cioè poi nel concreto funziona sia in un certo punto perché tutti interfacci con delle figure molto forti che siano uomini o donne intendo però guarda non pensare che non ci siano anche dentro al partito democratico o delle energie straordinarie da liberare amministratrici amministratori attivisti e militanti che hanno competenze saperi che formano già una nuova classe dirigente credibile che fa queste battaglie tutti i giorni con poche risorse sui territori bisogna cercare di farle emergere allora io se servo qualcosa ed è tutto da dimostrare servo solo se riesco con la fatica fatta fino a qui diciamo a costruire un percorso con mille diciamo ostacoli perché non è che quando io mi candidai nel PD il partito sostenesse la candidatura cioè avevo le porte dei circoli molto spesso sbarrati esattamente da quelli che erano lì da 15 anni e non avevano molta voglia di rinnovamento però ce l'abbiamo fatta allora oggi chi ce l'ha fatta con mille difficoltà prova ad aprire un varco per liberare quelle energie migliori e costruire un nuovo gruppo dirigente credibile e lo fai soltanto con tanta partecipazione ed è per questo che per me è fondamentale aprire è per questo che abbiamo fatto la battaglia non solo per far affollare i gazebo ma anche per estendere la partecipazione online alle primarie perché più siamo più costruiamo un'onda che è in grado di spazzare via anche quelle dinamiche tossiche che hanno schiacciato troppe donne fuori l'altro giorno ho incontrato una ragazza a una delle nostre assemblee che mi ha detto una roba che è molto indicativa mi ha detto io la prima volta che ho messo piede in una riunione del partito mi si è avvicinato uno e mi ha chiesto e tu di chi sei ecco io voglio un partito in cui nessuna donna si senta più di chiedere di chi è o si senta dire che siccome io ti ho messo lì adesso devi fare come dico io perché è stata la storia troppo a lungo di questo partito e guarda caso anche all'ultime elezioni abbiamo eletto meno donne che uomini quindi io credo che da questo punto di vista serva una leadership femminista ok ok quindi dai vediamo creiamo questa partecipazione adesso con le provette esatto provette vediamo un po' sei tipo le super chicche hai presente? un po' zucchero e cannella sì le ho presenti abbiamo scoperto che abbiamo molte cose in comune sotto l'aspetto entrambi fan di Fantaghiro non iniziamo a parlarne però abbiamo un'ossessione per Fantaghiro ci stava un sacco secondo me se fai alzare le mani in sala chi ha l'ossessione come noi come Fantaghiro trovi una sorpresa se pensate gli italiani che in questo momento stanno guardando Sanremo e noi siamo qui a parlare di Fantaghiro cioè facciamo vabbè ve lo ricordate il sasso parlante? era una cosa incredibile ci sono molte fan di Romualdo pioveva e si bloccava cioè tu ti fai il tuo esercito malvagio perché però se piove è un problema vabbè ok vediamo vediamo tema tema green e vabbè ce l'abbiamo nucleare? è una bella domanda allora ricerca sulla fusione nucleare sempre stata a favore dubbi sulla fissione nucleare enormi nel senso che oggi io credo che i tempi e i costi di industrializzazione del nucleare siano proibitivi rispetto a quella che è l'urgenza di fare una transizione energetica in questo paese per effetto anche di politiche folli di questi anni che hanno abbracciato le fonti fossili come se non ci fosse un domani quindi se tu guardi alle ultime centrali che sono state costruite a mio avviso ci hanno messo magari 14 anni con costi triplicati con investimenti miliardari ecco io non penso che oggi abbiamo 14 anni per penso che questo paese intanto doveva già dotarsi da tempo di un grande piano di infrastrutturazione verde sulla produzione di energia pulita e rinnovabile ed è proprio di oggi se non erro un nuovo rapporto di elettricità futura che è il settore elettrico di Confindustria che si dice pronta a investire 320 miliardi da qui al 2030 per produrre diciamo mettere a terra 85 gigawatt di nuova potenza rinnovabile e nel farlo stimano di poter creare circa 540 mila posti di lavoro per me la strada oggi da praticare maestra anche perché si sono ridotti di 20 volte i costi in questi ultimi 20 anni è quella dell'energia pulita e diciamo rinnovabile per cui che ha delle sue problematiche che conosciamo molto bene ma però tu sai Alessandro che le problematiche ce le hai anche perché questo è un paese che si vuole fare del male da solo perché se quando si incentivavano le rinnovabili avessimo pensato anche di creare le filiere che servono nel paese sui sistemi di accumulo su come superare il tema dell'intermittenza delle batterie oggi magari saremmo messi un po' meglio beh allora però aspetta sì saremmo sicuramente messi meglio e siamo sicuramente indietro rispetto ad altri però c'è anche un tema di quando le tecnologie arrivano e quando sono pronte ad esempio noi attualmente non abbiamo dei sistemi di accumulo a livello di rete questa cosa ancora non esiste non è una tecnologia esistente cioè non ci sono delle batterie giganti che noi possiamo attaccare alla rete per dire ok oggi non c'è sole però abbiamo queste batterie ce lo possiamo fare nelle nostre case però per la grande produzione questa cosa non esiste ancora mentre d'altra parte molti esperti dicono che non sono più 14 anni per costruire una centrale nucleare ci vuole molto meno magari 9 magari 8 ma se potessimo averlo subito il nucleare domani tu saresti d'accordo o no? cioè a livello concettuale a livello concettuale non esiste nulla se non verificato dall'approfondimento dei fatti io ti dico ad oggi questa possibilità non c'è altrimenti ti dovrei chiedere se tu fossi d'accordo a potere domattina avere grazie alla ricerca dei sistemi di accumulo più accessibili e avere un sistema di batterie senza le materie rare saggia è vero però io non ho problemi a dire io non ho molti amici in Sardegna perché ogni volta che si parla di nucleare poi si finisce sempre a dire vabbè però lo mettiamo in Sardegna perché la Sardegna non è sismica che ci sta e io non ho problemi a dire io ci sono cioè io ci starei dentro io sarei d'accordo e ovviamente questa cosa mi escluge mi toglie il bollino di Sardegna non lo vuole nessuno però io sono io sono un supporter di questa tecnologia perché mi sembra che abbia un rapporto guarda che anche sull'eolico oggi in Sardegna c'è un bel dibattito quindi non è che ti fa essere amicissimo di tutti essere a favore dell'energia no vabbè certo è vero però in generale costruiamo un sacco di centrali nucleari qua non è come dire costruiamo un parco eolico al netto del fatto che poi nessuno vuole mai niente e quindi c'è anche questa problematica sai come si risolve quella secondo me come hanno fatto a Copenaghen cioè non è che quando hanno proposto il parco eolico fossero tutti entusiasti ma hanno fatto la partecipazione cioè hanno creato una sede di dibattito pubblico che media interessi diversi commercianti le istituzioni i sindacati l'università la cittadinanza si discute perché non puoi calare queste soluzioni dall'alto e pensare che vadano sempre bene fai una partecipazione democratica che possa individuare anche il dove il come il perché ecco io ci credo sono d'accordo però alcune tipo pensa ai regassificatori che ok ne abbiamo bisogno io spero non c'è non spero non lo so cosa ne pensi tu nel senso penso che diciamo non è che sono soluzioni entusiasmanti se tu consideri che è GNL comunque cioè sono comunque fonti fossili però in un momento di crisi è chiaro che anche noi sono venuti a bussare quando eravamo al governo della regione e ci siamo io mi sono limitata a dire che sia una soluzione transitoria come ha chiesto la Toscana che fosse di tre anni e non di 25 magari perché tra 25 anni siamo da questa notizia al 2050 e noi dovremmo essere in grado di decarbonizzare l'Italia entro il 2050 giusto però poi tu vieni i territori vieni a più in vino non è che puoi aspettare il 2049 puoi dire aspetta che decarbonizziamo tutto in un anno no no dico certo ma poi tu vai a più in vino fai la grande partecipazione democratica che dice e la gente ti dice prego si accomodi fuori dall'area sono processi complessi naturalmente noi con i tempi che avevamo non è che su questo l'abbiamo fatta però ti dico cioè una questione è una nave rigassificatrice che sta lì e poi a un certo punto si spera il più presto possibile si sposta un conto è un impianto eolico che è lì per restare a me piace il progetto Agnes che vogliono fare a Ravenna perché quella è una ex piattaforma piattaforma estrattiva che verrebbe riconvertita con tre tecnologie diverse rinnovabili l'eolico il fotovoltaico probabilmente anche l'idrogeno verde adesso non ho studiato bene il progetto però è l'idea di tenere lì forza lavoro riprofessionalizzandola e trasformare l'esistente che peraltro è brutto già nel senso perché non è che mi sveglio la mattina e dico che bello vorrei una piattaforma estrattiva davanti alla finestra e però lì intanto la bruttura c'è già altre situazioni sono più complesse penso in Sicilia dove si sta discutendo di un altro grande parco eolico che darebbe si dice circa 8.000 posti di lavoro però lo stanno facendo tipo a 60 miglia cioè non lo vedi a 60 km quelle sono questioni che ti puoi gestire devi coinvolgere l'istituzione e la comunità ma se ti posso dire però anche con la scientifica nel senso perché tipo sul nucleare mi sembra che ci sia un po' di certamente ok quindi volendo si può cambiare idea sul nucleare se ci accorgiamo guarda solo gli scemi non cambiano idea nel senso a me è capitato tante volte di cambiare idea dopodiché su questo punto credo che comunque i tempi e i costi non siano tali e non capisco la resistenza di questo paese sto scherzando la capisco benissimo si chiama lobby delle fonti fossili che la politica ha ascoltato troppo in Italia quindi non facciamo il nucleare per le lobby delle fonti fossili no ti sto dicendo che non capisco la resistenza del paese a dotarsi di infrastrutturazione dell'energia solare ed eolica che secondo il World Energy Outlook che è il documento più importante a livello mondiale già nel 2020 ci diceva il fotovoltaico ha raggiunto i costi di elettricità più bassi della storia dell'umanità allora non è che siamo un paese privo di sole di vento e di acqua e quindi capire come ad esempio non ti sto parlando di coprire diciamo il suolo agricolo con delle distese di pannelli anzi bisogna aiutare gli agricoltori che oggi spesso ricevono offerte molto generose però lì quella non è la strada perché quello vuol dire fare comunque consumo di suolo ma quanti tetti abbiamo di edifici pubblici e privati dove invece si potrebbe andare perché sono tante questioni che però devono viaggiare tutte assieme cioè io sul tetto di casa mia ho messo i pannelli bene molte delle cose lo sappiamo in realtà arrivano dalla Cina perché poi a noi mancano un sacco di cose perché non abbiamo fatto le filiere in Italia quando potevamo perché spesso ci mancano anche le terre rare ma tu sai che ci sono delle ricerche molto interessanti su come evitare di dover utilizzare le terre rare ci sono un sacco di ricerche super interessanti però tutte queste tecnologie hanno dei tempi sono d'accordo sono d'accordo su questo però investiamo ogni volta ci diciamo è curioso che mi dici investiamo su questa roba la fusione nucleare figa eccetera poi ti dico vabbè dai però facciamo anche un po' di fissione mi dici no vabbè tempi 15 anni poi se tu mi dici se sono meno se è la metà vediamo dove c'è stato il primo esperimento che ha portato a meno tempo in realtà ci sono molte il problema delle scorie è comunque come lo risolvi beh ma le scorie sono pochissime eh ho capito però ci sono tu le lasci alle prossime generazioni ma noi le stiamo facendo tu sei peggio di me perché capito io non mi preoccupo della multinazionale che non mi vota le primarie ma tu dici vabbè tanto saranno fatti ho detto fatti di quelli che arriveranno tra 30 anni conta che tutte le regioni tu lo sai bene meglio di me già producono scorie nucleari perché le scorie nucleari si producono per tante ragioni non soltanto per le centrali nucleari comprese quelle che abbiamo spento e che insomma tuttora producono degli scarti perché io c'ho gli esperti nuclearisti che ogni volta che sbaglio oltre scorie scarti però traumi enormi ragazzi però già ne produciamo e già le stocchiamo e in realtà sono così poche e così facili da stoccare che stanno in una casetta guarda io sono però non capisco non è un mondo perché tu pensi che ci vorrà meno tempo per quell'industrializzazione che non per creare le filiere che ci servono per investire sull'energia perché credo che ci servirà sempre più elettricità anche a livello globale questo sarebbe un problema però perché non la nigeria che sta crescendo e ti dice ma io la voglio siamo d'accordo io ti parlo dell'italia lui ha ragione ragazzi però attenzione io penso che il problema vero è che in questo diciamo bilanciamento per cui andrebbero compensati i paesi a cui abbiamo rubato futuro noi dobbiamo comunque ridurre i nostri consumi energetici per cui in italia dovremmo cercare di ridurli attraverso ad esempio l'efficientamento energetico che possiamo efficientare ma non ridurre più ti industrializzi più consumi elettricità noi dovremmo sperare tu sai che noi abbiamo diciamo il settore anche dell'edilizia visto che oggi ero al congresso della filea cgl che si occupa proprio del settore dell'edilizia l'edilizia residenziale ha una parte importante di responsabilità sulle emissioni e lì devi fare un'operazione di grande investimento sull'efficientamento funziona peraltro perché comunque fa risparmiare in bolletta e al contempo riduci le emissioni clima alteranti quindi anche lì è costosissimo quindi ha un impatto gigantesco poi su tutto il mercato aumenta il prezzo delle abitazioni è sicuro che non costi di più continuare a tenere un patrimonio edilizio super energivolo io non sto dicendo teniamoci le catapecchie sia chiaro però mi rendo conto che ogni cosa ha un contrappeso e questo contrappeso alla fine tutta la nostra chiacchierata mi sembra che si stia basando proprio sul discorso di le persone che si fanno i conti in tasca e dicono sì però però tu mica devi lasciare da sole quelle persone devi investire con politiche che vogliono produrre quel risultato lì ma si possono fare funzionano le cose ogni tanto in Italia guarda allora non ho detto niente agosto del 2020 la regione in cui io facevo la vicepresidente ha più o meno 55.000 alloggi popolari il 10% erano vuoti perché una parte perché c'è una rotazione naturale ma la maggior parte perché mancano le risorse per fare le piccole medie manutenzioni per rendere diciamo agibile e abitabile una casa popolare ci sono liste d'attesa infinite di persone che hanno diritto ad avere la casa popolare ma ancora non l'hanno vista allora ti siedi al tavolo con i comuni ti siedi al tavolo con le società che le gestiscono e dici benissimo io ci metto 10 milioni di euro ma voi in 7 mesi 4 per i lavori 3 per le assegnazioni anche di questo sarebbe da parlare perché quella è la parte burocratica 7 mesi riusciamo a recuperare 500 alloggi lavoriamo così bene coi territori che 7 mesi dopo ne abbiamo recuperati 731 dati a famiglie che avevano diritto alla casa ma ancora non ce l'avevano cioè la politica e tu hai ragione perché bisogna riabitare la complessità altrimenti ci sono altri leader politici che sono lì diciamo a semplificare la qualunque ma non funziona perché non porta risposte al paese però devo dire la politica è l'arte di usare delle risorse che non sono infinite ma di redistribuirle cioè di metterle dove servono di più per rendere un po' più giusto questo mondo e quindi ridurre un po' le diseguaglianze che sono aumentate nella crisi ma l'hai fatto partire e tu l'applauso è sempre quello che è rimasto a fare dalla lista adesso ogni volta adesso è malattia ok parlando di questioni gli stai facendo mancare Sanremo sono tipo Celentano non lo avete presente ogni volta si dice Celentano le sue pause di Celentano io dico vabbè molto lunga ma fatti cosa il mirto sceglie lei cioè le regole sono queste però il popolo ti chiede era uno ma è un rappresentante del popolo la politica mi ha fatto smettere di bere te l'ho detto però un'eccezione la possiamo fare parliamo di complessità cioè una questione che analizzando analizzando è malordo guardando i tuoi interventi non mi è chiara vorrei che mi fosse super chiarissima che è la posizione che tu daresti provesti a imprimere nel PD dopo aver distrutto le correnti un disagio non sto scherzando sulla guerra sulla guerra in Ucraina ti ho guardato da formigli sono grande sono di la 7 non so perché l'ho detto un saluto a formigli non c'entrava niente era un grande fan è una roba vabbè e tu hai spesso parlato di come correggimi io do forma a quello che ho capito poi tu correggimi sul fatto che sei d'accordo con l'invio di armi all'Ucraina ma anche alla creazione di un tavolo di pace che ti sembra che in questo momento non esista o non ci sia abbastanza forza nel richiederlo sì ma materialmente è un tavolo no è una stronzata materialmente è materialmente un tavolo non lo capita solo io materialmente come si crea questo tavolo con qualcuno che non lo vuole se avessi questa risposta probabilmente diciamo mi avrebbero già candidato al Nobel per la pace non ho la verità in tasca dico che da marzo dell'anno scorso io vengo da una cultura pacifista quindi è un dilemma etico profondo quello che diciamo colpisce ma dall'inizio io non ho pensato che fosse sbagliato sostenere la resistenza a Ucraina su questo c'è il dibattito maggiore cosa diversa invece a cui mi sono scagliata nettamente contro è l'aumento della spesa militare in Italia e anche negli altri paesi europei perché la premessa è questa io sono una federalista europea convinta io penso che servirebbe una difesa comune europea ma che non ci sarà finché non ci sarà la cessione di sovranità di competenze la condivisione di competenze da parte dei governi europei che sono gelosissimi di queste competenze si attribuisce una battuta a Kissinger chissà se era detta davvero quando disse ma io per parlare con l'Europa non ho ancora capito a chi debba telefonare molto cinica ma molto attuale ora siccome penso che serva una difesa europea serva quindi fare investimenti comuni questo vuol dire teoricamente riuscire a ottimizzare quegli investimenti anche nella ricerca e nella spesa militare non quello che stiamo vedendo cioè tutti i paesi che la fanno schizzare linearmente verso l'alto però invece sul supporto alla resistenza ucraina la sproporzione diciamo di forze in campo mi faceva pensare che il tentativo di Putin fosse quello di fare una blitzkrieg cioè di risolverla in poche settimane quindi non mi sono credo che fosse quella esatto dopodiché sono passati quasi un anno e quello di cui ho sofferto la mancanza è un protagonismo dell'Unione Europea con una voce sola forte e autonoma per chiedere la fine di questo conflitto per chiedere e insistere con tutta la comunità internazionale perché Putin non è un attore isolato Putin ha fatto un'aggressione criminale e ha violato ogni diciamo forma di diritto internazionale però non è isolato ha delle altre realtà intorno che lo supportano e allora cosa serviamo noi come Unione Europea se non ci facciamo promotori diciamo di una pressione internazionale che porti davvero diciamo a costruire le condizioni per fare cessare il fuoco e per fare una conferenza multilaterale di pace perché non è che da soli la risolveranno tra di loro e siccome io mi tengo stretta la mia convinzione che le guerre non si risolvano con le armi cioè che noi non possiamo aspettare per chiedere la pace che cada a terra l'ultimo fucile perché tra l'altro non sapremmo neanche quale cade dei due mi spiego e quindi io vorrei un protagonismo molto più forte dell'Unione Europea che ha mancato perché tu sai come si chiama l'alto rappresentante della politica di sicurezza comune dell'Unione Europea no ecco questo è un problema non lo devo sapere io eh attento perché secondo me quando era Federica Mogherini lo sapevi Borrell bravo però tu hai sentito una voce forte di Borrell o di Ursula von der Leyen per dire adesso basta per dire a Cina e Stati Uniti sediamoci a un tavolo e capiamo come fare smettere questa invasione ecco io questa mancanza l'ho avvertita ma se tu fossi stata in Borrell o in Ursula von der Leyen cosa avresti fatto? Beh avrei provato a convincere insomma la Commissione Europea ha un suo ruolo poi c'è il Consiglio Europeo dove avrei provato almeno a stimolare questa richiesta forte agli alleati alla comunità internazionale per dire troviamo le vie per fare smettere perché è stato fatto un lavoro di forte compattezza europea sulle sanzioni che ha prodotto degli effetti però invece sulla richiesta di cessazione di questo conflitto è stato fatto meno è chiaro che non puoi che lavorare per una pace giusta mi spiego perché non ci può essere a mio avviso nessuna equidistanza tra diciamo quello che ha fatto Putin e naturalmente l'Ucraina però ti dico io l'avverto molto questa mancanza dell'Unione Europea e la trovo una mancanza di peso che possa aiutarci a essere più rispondenti ai principi fondamentali che abbiamo messo alla base dell'Unione che sono principi di pace che sono principi di democrazia ma da marzo la sento molto afona su questo tema è curioso perché io la percepisco in modo diametralmente opposto cioè trovo che per una volta l'Unione Europea abbia avuto una risposta molto forte e molto coesa con la decisione di imporre le sanzioni che ha imposto siamo d'accordo su questo che non sono armi le sanzioni sono un mezzo per provare a far sedere qualcuno a un tavolo esatto quindi c'è stata questa risposta anche da parte tua io sono convinta che sia stato diciamo uno dei momenti di maggiore unità quello delle sanzioni guarda non vedevo una compattezza così da quando votammo io ero al Parlamento Europeo nella scorsa legislatura la risoluzione dopo lo shock e il trauma della Brexit quindi sicuramente quello è un elemento positivo però mi chiedo pure quale ruolo dell'Unione per cercare di far finire realmente questo conflitto che sta devastando la popolazione ucraina perché come al solito le guerre le pagano diciamo le popolazioni civili ma sta producendo disastri anche in tutto il resto dell'economia e delle società globali almeno delle nostre di quelle più vicine di quelle europee però di nuovo non è chiaro come questo tavolo debba essere creato lo so benissimo se qualcuno di noi avesse la risposta magari l'avrebbe già suggerita però intanto scusami se tu dici così vuol dire che pensi che sia sbagliato mobilitarsi per la pace perché io penso che sia giusto continuare a mobilitarsi per la pace sia chiaro nel senso io sono uno di quelli che sventolava la bandiera della pace in ogni occasione io vengo da quella cultura lì vengo anche da una visione del mondo che credo noi tutti condividiamo che si era abituata al concetto che alcune cose non si fanno più a livello internazionale cioè che un paese non può entrare in un altro paese e prendersene un pezzo anche con l'esercito sì ma poi esprimendo una visione dei rapporti internazionali che non è più moderna non è più quella che è fatta di vassalli valvassori cioè io sono il paese forte voi siete nella mia sfida di influenza che significa che io entro e mi prendo quello che voglio questa cosa non esiste più o non dovrebbe esistere più la Russia ha rotto l'ha fatto più volte in realtà comunque ha rotto il giochino per l'ennesima volta e io quindi sono contento della risposta Europa è attanto che da pacifista mi sono visto contento dell'invio di armi è paradossale però vedere una risposta tale per cui rischi perché comunque l'invio di armi è un rischio di coinvolgimento in qualcosa che è molto grande e pericoloso a difesa di un principio che è quello della cooperazione internazionale non più del conflitto armato io lo trovo la scelta più pacifista che puoi fare paradossalmente armare qualcuno guarda è il motivo è il motivo per cui è il motivo per cui pur diciamo venendo da quella cultura ho votato anch'io a favore dell'invio delle armi ma mi pongo anche il tema di quello che dice ad esempio il Papa cioè quando è che troviamo il modo per farle tacere queste armi perché ci intiamo il Papa continuamente perché è l'unico che lo dice Alessandro è l'unico che lo dice è il Papa è lì cosa deve dire ma io sono libera e sono sbattezzata tu sei sbattezzata no non sono mai stata battezzata perché non sono una persona religiosa ok no ma neanch'io sono una laica però capito mi pongo questo tema poi la risposta se ce l'avessi ti dico appunto avremmo già magari potremmo dare un contributo più fattivo alla costruzione della pace però scusa io te la rivolgo a te invece la domanda e quindi ci teniamo questa guerra per sempre fino a che diciamo qualcuno non prevarrà sul campo o proviamo a chiedere diciamo che finisca questa diavolo di guerra no allora ma non solo questa diavolo di guerra perché poi ci dimentichiamo spesso che ce ne sono almeno un centinaio no ma per carità certo però il punto è che non è chiaro a chi lo devi chiedere perché cioè nel senso se io sono un lato ed entro in casa di qualcuno tu puoi chiedermi tutto quello che vuoi però io comunque nel frattempo io su questo non ho mezzo dubbio ok alla mia casa io sono una cittadina europea una appassionata federalista europea ho sentito mancare su questo pezzo di ragionamento la voce dell'unione europea e dobbiamo porcelo questo tema perché invece diciamo c'è qualcuno che sta avallando l'operazione di Putin no e allora vogliamo che con la Cina diciamo discutano solo gli Stati Uniti o c'è un protagonismo europeo e ti potrei fare altri mille esempi Alessandro la Libia se è una polveriera ce lo vogliamo dire che è perché ci sono interessi confliggenti di paesi europei tra cui il nostro tra cui il nostro che impedisce la Unione europea di avere un ruolo attivo nel cercare la pacificazione anche lì e con la Siria non è stato forse la stessa cosa assolutamente se dobbiamo andare fino in fondo credo che anche i temi di cui parlavamo prima non siano sconnessi con questi però il discorso ultimo è che continuando a ripetere sì però dobbiamo anche cercare la pace quando lo si dice queste parole di certo non arrivano a Putin che gli interessa tanto quanto perché è evidente che non sarà la nostra volontà di farlo sedere a sto tavolo a farlo sedere a un tavolo anche lunghissimo perché lui ha questa passione per i tavoli particolarmente ma sono parole che io alle volte percepisco un po' pelosette che arrivano ad altre persone che invece sarebbero per non inviarle proprio le armi cioè c'è tutta una parte nella sinistra italiana sono scelte io ho scelto già da che parte stare e non da quella quindi mi prendo la mia libertà che è la libertà di una persona che si interroga su che ruolo possiamo avere oggi per cercare di far smettere questo e tutti gli altri conflitti perché poi purtroppo questo lo sentiamo particolarmente vicino a noi perché è particolarmente vicino a noi però diciamo tutto intorno a noi si stanno inasprendo i conflitti e se tu guardi la mappa degli effetti diciamo dell'emergenza climatica e la mappa dei conflitti e li sovrapponi scopri tante cose e quindi io credo diciamo che non dovremmo smettere e non dovremmo avere alcuna ambiguità come dici tu ma non dovremmo neanche smettere di sperare che a un certo punto questa guerra finisca e che non sia soltanto diciamo Putin a decidere quando finirla ma anche una pressione talmente forte intorno che si è avviata con le sensioni ma se siamo ancora diciamo a quasi un anno evidentemente serve un'iniziativa ancora più forte da tutti i punti di vista ad esempio appunto facevo prima il caso della Cina cioè c'è qualcuno che comunque sta facendo cioè lo sta facendo fare e ha delle alleanze importanti e trovo che sia stato significativo anche il passaggio a uno degli ultimi summit internazionali dove comunque alla fine si è fatto una dichiarazione di molti leader di stati per dire diciamo basta no e io ci penso e ci spero non penso non mi mette in alcun imbarazzo questo anche perché io la mia posizione l'ho detta dall'inizio e l'ho detta pur venendo da una cultura che ha una parte che come dici tu pensa che invece è anche sbagliato diciamo rifornire la resistenza ucraina io non penso che sia stato sbagliato ok sono curioso di una cosa cosa ti hanno insegnato questi ultimi anni nell'esperienza che hai fatto faccio un piccolo recap perché a parte che tu sei andata negli stati nel senso una persona prende tu hai tre cittadinanze corretto italiana svizzera statunitense e hai detto vabbè vado a seguire la campagna di Obama a lavorare attivamente per la campagna di Obama però te che a me c'era anche l'ho presa al supermercato cioè sono nata figlia di un'italiana e figlia di un americano quindi ce ne avevo due per nascita e sono nata in un altro paese dove a un certo punto ho scelto di naturalizzarmi perché è un paese anche quello che ha il permesso di soggiorno che se vai via più di sei mesi scade ed è come se tu non avessi mai vissuto là a proposito di politiche migratorie e quindi diciamo non è che l'ho presa diciamo erano lì in offerta ma soprattutto ti dimostra una roba io che sono nata in un altro paese figlia di un'italiana ho la cittadinanza mentre questo diritto viene negato a persone nate e cresciute in Italia perché ancora non c'è una legge sullo ius soli io la trovo una vergogna assolutamente sono super d'accordo ed è una responsabilità della politica e anche del partito democratico che in questi anni è stato al governo abbiamo visto mettere la fiducia sulla qualunque e non su una legge di civiltà come questa anche se sì sì anche se questo io lo dico perché sono quello che odie migranti teniamocela questa cosa ho paurissima no ogni mio anche se ora vuole fare l'avvocato del diavolo contro gli usori contro ogni cosa però basta già arrivano con i cellulari sulle barche con i cani i trolli esatto e li vedi lì e vogliono anche il passaporto ti è uscito un accento che cos'era ti è uscito una cosa strana è Milano ragazzi Milano è Gran Milano ok però si dice spesso al PD ecco qui adesso di nuovo lo iussoli stanno lontani dai problemi è una cosa sentita è una battaglia che ho combatto da una vita non voglio fare davvero però non è un'altra di quelle cose che la gente fa sì vabbè però basta la gente che non è quella almeno milione di ragazze e ragazzi che sono nati cresciuti qua cui sono negati diritti fondamentali cioè nella storia di questo paese non si è mai fatta inclusione sociale negando diritti e riconoscimento se non abbiamo imparato questo abbiamo sbagliato paese diciamo mettiamola così dopodiché come ti dicevo prima diritti sociali e civili sono inscindibili quelli che fanno il benaltrismo e io ce li ho i campioni tutti i giorni sui social hanno un problema con gli uni o con gli altri o con tutte e due ed è chiaro perché perché quelle persone sono anche persone che lavorano sono anche persone che pagano le tasse con le aliquote e sono anche persone che fanno impresa e producono in questo paese e vivono discriminazioni tutti i giorni mentre lavorano mentre fanno impresa mentre pagano le tasse allora perché non dobbiamo mirare ad una società più giusta perché guarda lo dico per gli appassionati di sicurezza che oggi albergano a Palazzo Chigi la società più sicura ce lo insegna la storia d'Italia è la società più inclusiva che non marginalizza che non lascia indietro nessuno che non lascia un centimetro alle discriminazioni io la penso così anch'io la penso così mi rendo anche conto che anche lì è più complicato nel senso che poi le persone in generale tendono a pensarla questa cosa a parte quelli che piano calergi volete ma le persone normali pacati da soros tutti quanti le persone tendono a pensarla questa cosa in un modo o nell'altro però poi magari hanno un po' paura del contatto col diverso che è una cosa molto leale e quindi anche lì ho come l'impressione che ci sia poi questa disconnessione che io continuo a sentire tra il famoso paese nel senso che noi tra noi ce le possiamo anche raccontare alcune cose alla fine siamo tutti più o meno d'accordo però poi l'impressione che ma tu sei sicuro di questo sei convinto ma a parte il signore qui che lancia gli applausi io scusa me la sto prendendo con te ma sto scherzando ti faccio una domanda quando tu andavi a scuola sì quante diciamo persone di origine straniera migrante avevi poche poche ecco perché sei un boomer alla fine certo no no ma orgogliosamente le nuove generazioni secondo me hanno già diciamo interiorizzato un modo nuovo di stare insieme perché stanno già crescendo insieme in quelle scuole io ho fatto quell'esperienza proprio perché in realtà a scuola avevo tantissime ragazze e ragazzi di famiglie spagnole portoghesi di diciamo più o meno vecchia migrazione e era gli anni 90 e quindi tante che fuggivano dalle guerre dei Balcani e non c'è niente di meglio di crescere insieme in quella scuola che ti faccia capire che nelle nostre diversità dobbiamo essere comunque tutti uguali nei diritti e nelle opportunità che abbiamo ma certo ma ovviamente e quindi io credo che la società invece sia già più avanti anche della nostra generazione poi chiaro non vuol dire che non ci siano i rinculi si può dire i rinculi a quest'ora dopo che si è detto CLCB CL lasciato dalla trova CBCR dicevo ci sono i rinculi c'è guarda ieri era giornata nazionale contro il bullismo certo che ci sono questi fenomeni però io guarda penso che saranno sempre più minoritari e lo dico anche da persona che ha visto e vissuto sulla pelle un cambiamento culturale importante su un altro tema fondamentale che è quello del contrasto all'odio e alla discriminazione homo-bilesbo-transfobica per cui ci vorrebbe una legge come lo ZAN che la destra ha ritenuto di affossare con un orrendo applauso che spero di rimandargli indietro molto presto applauso alla destra bravi molto bene è più forte questo gli applausi un applauso contro il DDL ZAN secondo te lì si è sbagliato un piccolo parentesi lì Alessandro Zan ha sbagliato? no ok no perché diciamo guarda io sono una che ha dovuto imparare a costruire compromessi perché ho fatto un'esperienza al Parlamento Europeo che per definizione è un Parlamento senza maggioranze fisse quindi mi è capitato di trattare appunto di contrasto all'evasione e all'illusione fiscale con persone che venivano da partiti estremamente distanti estremamente più a destra ne dico un'altra la riforma più importante che ho curato quella di Dublino è la riforma di Dublino Dublino hai fatto un lavorone quella più complessa perché adesso lo spiego in un nanosecondo al secondo mirto Dublino è la vera ipocrisia della normativa sull'accoglienza europea perché è un regolamento che ha un solo compito per ogni richiesta d'asilo presentata nell'Unione e non solo perché ci sono altri paesi che ne fanno parte decide qual è il paese e il solo paese responsabile ad affrontare quella richiesta d'asilo e vuol dire che quella persona poi rimane lì ok ed è un regolamento molto ipocrita perché ha tutta una serie di criteri super restrittivi e poi c'è l'ultimo che è il criterio del primo paese di accesso irregolare cioè è la norma che ha bloccato centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo paese europeo dove hanno messo piede e non ci voleva un genio quando l'hanno fatta e c'era il centro-destra al governo per capire che questo avrebbe messo maggiori responsabilità sui paesi complicati questa era la riforma negli anni della rotta balcanica e della crisi siriana nell'anno record del 2016 di richiesta d'asilo in Europa 1.300.000 è il record quindi stiamo parlando dello 0,26% della popolazione europea non sono numeri sono persone ma è per far capire che è incredibile che 27 governi diciamo non siano in grado di gestire in modo condiviso diciamo l'arrivo di quello che rappresenta lo 0,27% della popolazione quella riforma era la più divisiva d'Europa e io l'ho dovuta negoziare con Alessandra Mussolini che stava nei partiti del popolare europeo adesso Alessandra Mussolini ha cambiato tutto ha visto che c'è stata la cosa non posso essere non binaria ok timeline strana però al tempo era un'altra timeline e quindi comunque insomma so cosa vuol dire costruire compromessi ma c'è una soglia sotto la quale non puoi rinunciare a difendere i diritti fondamentali e i principi e i valori fondanti della Costituzione e io credo che tutelare il diritto diciamo delle persone LGBTQI plus a difendere la propria identità di genere sia diciamo ben al di sopra di quella soglia sotto cui non bisogna scendere ok queste esperienze prima stavo citando appunto il fatto che tu abbia partecipato alla campagna di Obama immagino tu l'abbia fatto per una questione di entusiasmo personale o anche perché se no che nel senso la parte che per me è storia antica io noi abbiamo la stessa età ma a me sembra che ai tempi di Obama avevo sei anni cioè non so ho una percezione del tempo che è molto distorta ma quell'esperienza sono curioso di capire come sei passata da quell'esperienza a poi fare la parlamentare europea a poi diventare vicepresidente di regione che cosa ti ha insegnato cosa e come ti ha cambiato se ti ha cambiato è stato un caso cioè io non mi aspettavo di fare politica così attiva io ho iniziato dall'attivismo dalle mobilitazioni studentesche e da lì a un certo punto siccome appunto in quella elezione la prima era tra Obama e John McCain non era in gioco solo il futuro degli Stati Uniti ma dopo le folli politiche diciamo repubblicane di quegli ultimi otto anni era in gioco molto di più e quindi io ho tenuto care le parole che disse Tiziano Terzani dopo l'attacco alle torri gemelle che disse ci sono dei momenti della storia in cui senti il bisogno di essere lì dove alcune cose accadono e quindi avendo dei cugini che stavano a Chicago ho detto ma perché no li vado a trovare mi metto a disposizione e faccio la volontaria un'esperienza straordinariamente formativa perché quella fu una era il 2008 quindi stava nascendo i social Facebook e quindi fu una campagna pioneristica perché all'inizio nessuno credeva o comunque era una campagna fatta negli scantinati che i sindacati mettevano a disposizione dove avevamo dei lunghi elenchi cartacei a cui dovevamo telefonare che la gran parte dei numeri ottimo andavano a quel paese oppure non rispondevano e quindi c'era un sacco di gente lì per dare una mano e che credeva in una visione coerente del paese ma persone molto diverse pensionate nere accanto a ragazzi già indebitati per studiare all'università persone che fuori da lì non si sarebbero mai incontrate ma che lì si incontravano perché era coerente la visione del futuro che in quel caso Barack Obama stava proponendo e questo ha funzionato ha funzionato per fare una campagna che loro chiamano grassroots cioè a filo d'erba collettiva ecco quella è la cosa che mi sono forse più portata in un contesto enormemente diverso come quella italiano cioè l'idea che ti dicevo prima che quando mi sono trovata che qualche persona con cui avevo condiviso delle battaglie mi ha detto oh ma ci sono le europee bisogna che ti candidi a parte che io riso perché con un cognome così voglio vederti a prendere le preferenze in Italia diciamo e poi non avevamo strumenti non avevamo finalizzati tipo nota peppa quelle robe lì dove è più facile sì sì ma comunque non basta perché anche lì c'è un casino che la giurisprudenza non è d'accordo quindi sarebbe facile poter dire scrivielli però in realtà hanno rischi e quindi la gente l'hashtag era si scrive Schlein perché c'era chi mi mandava il sabato il video che si stava esercitando sulla mano abbiamo segnato un sacco di mani praticamente però era per dire cioè è stato un caso perché è nata da alcune battaglie collettive a cui ne sono sempre seguite altre e io all'inizio non ci credevo di poter fare un'esperienza così diciamo che poi nel 2012 l'ho ripetuta quell'esperienza con Obama ed era cambiato tutto cioè beh era stato presidente quattro anni e mezzo però c'era dei sistemi automatici per cui sostanzialmente dei computer attaccati a dei telefoni che noi davamo in mano ai volontari facevano cento chiamate al minuto e ti mettevano in contatto con il primo che rispondeva e tu vedevi nome e cognome dove doveva votare numero di scarpe e come aveva risposto le ultime cinque volte che era stato contattato a proposito diciamo di come si può cercare di valorizzare ad esempio un patrimonio di persone che votano alle primarie e quindi sai che sono dei sostenitori e magari non li chiami soltanto una volta due giorni prima delle elezioni per dire vota ma ne fai anche una comunità politica che può prendere delle decisioni insieme io sogno un partito democratico così che quella base la consulti sulle scelte fondamentali sui temi e sulle alleanze perché se hai paura della parola democrazia magari non ti chiami partito democratico per dire io lì ho imparato tanto ma questa cosa me la son portata perché quando mi hanno detto ma candidati noi avevamo fatto un'esperienza in mezzo si chiamava Occupai PD si ricordo contro le larghe intese contro l'affossamento dei famosi 101 franchi tiratori che affossarono la candidatura di Prodi al Quirinale ma non solo Prodi cioè loro in una mossa sola geniale affossarono Prodi Bersani segretario del PD l'alleanza di centrosinistra e aprirono la strada per il governo di larghe intese con Berlusconi quindi diciamo c'era molto di più che soltanto la candidatura al Quirinale noi iniziamo da lì questa battaglia e poi qualcuno mi disse vai cioè sei la persona che può diciamo fare una battaglia sensata qui e allora cosa abbiamo detto abbiamo detto guarda io la faccio però se la facciamo la facciamo come una campagna collettiva cioè cercando di raccogliere contributi risorse competenze c'era chi portava gli aperitivi cioè le tartine perché quello sapeva fare ma era anche quello un modo c'era chi ci faceva dormire sul divano per risparmiare un albergo e contro ogni aspettativa il fatto di trovare chiuso molto spesso i luoghi di partito e quindi io ho scelto di non stare a fare la guerra sulle preferenze nei circoli no? magari contendendomele con le persone che stanno nella stessa lista ho scelto di andare nei luoghi di confine dove prendi anche su degli insulti ma è giusto così cioè in mezzo alle persone a dire oh noi stiamo provando a fare questo ascoltiamo quali sono i bisogni costruiamo proposte di miglioramento e di cambiamento concrete ma se è così importante questo rapporto diciamo fisico con le persone cioè non so come definirlo perché la battaglia per far votare elettronicamente allora? perché oggi nel 2023 soprattutto dopo il 25 di settembre che non ha segnato solo la sconfitta nostra e non solo nostra perché poi bisogna anche dire che il PD non ha perso le elezioni da solo però è l'unico partito che ha aperto questo processo costituente per rimettersi profondamente in discussione e questo io lo apprezzo molto perché è un gesto di generosità e di umiltà dall'altra parte però è stata la sconfitta della democrazia perché quel giorno c'è stato il più alto tasso di astensionismo della storia d'Italia della storia delle elezioni politiche e dentro quell'astensionismo la maggioranza sono persone povere cioè persone con i redditi più bassi allora è chiaro che davanti a questo tema della democrazia io dico ogni strumento che oggi può facilitare la partecipazione è nostro dovere implementarlo però quanto la partecipazione è cliccare su una roba nel senso tu mi parli di questa roba la signora con le tartine nel senso siamo lì facciamo comunità parliamo ci confrontiamo eccetera che è una realtà politica che insomma conosco anche come funziona quello crea una certa comunità mentre stare lì e dire vabbè Schlein Bonaccini quello non crea una partecipazione sono talmente d'accordo con te che finché c'è stato possibile perché poi hanno messo il limite sempre più diciamo avanti fino al 31 di gennaio noi abbiamo fatto una grande campagna per chiedere di iscriversi a questa comunità per partecipare alla prima fase che è ancora in corso in questi giorni ed è una prima fase che è rivolta proprio alle scritte e agli iscritti del partito democratico e io dico sempre che è la più bella perché non si tratta solo di mettere una X su un nome che sarebbe di riduttivo ma è una fase in cui tu vai nei circoli c'è altre persone intorno e fai un dibattito vero di confronto tra tutte le emozioni di tutte le candidature e il dibattito non lo animo io e gli altri candidati ma lo animo le persone di quel circolo allora quella è la fase più bella devi far parte della comunità altra cosa è la scelta per me giusta di permettere anche elettrici e elettori di dire la propria su chi deve essere la guida di questa comunità e penso che sia stato un elemento identitario forte del partito democratico ma di arricchimento della partecipazione perché poi magari il giorno dopo la persona che è coinvolto si scrive e ha anche voglia di portare le sue competenze i suoi saperi dentro la comunità però se cioè a me è capitato in passato di votare delle primarie del PD perché volevo indirizzare il partito in un certo senso io però non sono mai stato iscritto a nessun partito non ho grandi simpatie per nessun partito in generale e quindi sono andato lì a dare il famoso euro i due euro perché i non iscritti facevano sta roba qua certo non che io poi mi sentissi particolarmente in tutti nel senso vabbè sono andato lì la mia scelta poi non è che ho iniziato la vita di partito però è già uno sforzo cioè è già presuppone uscire di casa e andare a votare cioè ha un suo non dico un suo gesto nobile però è uno sforzo diciamo così davvero dicendo alla gente ok però se proprio volete se volete venire va bene però anche da casa ok e sentitevi parte del circolo cioè non so quanto funzioni come tipo di non ho capito la domanda non hai capito la domanda se io avessi potuto votare da casa senza pagare il famoso euro vabbè l'euro non è la questione però magari avrei votato a più più primarie perché poi a un certo punto ho smesso ed è un male forse sì ah vabbè ragazzi allora abbiamo un'idea diversa perché alla fine è giusto che io che magari poi non voto PD cioè perché nel senso succede no scelgo il candidato e poi non dico no però io voto altri voto Forza Italia cioè questo è il tipo di entusiasmo che vogliamo hai votato Forza Italia? no no ti siamo di votare Forza Italia beh il personaggio che stiamo creando stasera cioè potrei votare c'è potrei votare qualsiasi cosa Voldemort no senti io penso tu comunque come tutti gli altri devi votare diciamo dichiarando di essere elettrice elettore del Partito Democratico e di nuovo non mi convincerai mai che magari se c'è qualcuno che fa il furbo o abusa bisogna togliere questo questo piacere questo diritto di partecipazione a tutte le elettrici e gli elettori che sono sempre stati adesso diciamo più di un milione a fronte di iscritti che non sono un milione da molti molti diciamo anni il PD non li ha mai visti un milione di iscritti quindi io penso che invece sia uno strumento identitario importante è chiaro che noi abbiamo fatto questa battaglia pensando anche a chi quel giorno lavora perché se voi fare il partito che difende lavoratrici e lavoratori non puoi non porti il tema di chi la domenica lavora e non è a casa di chi ha difficoltà motorie di chi ha delle disabilità di chi semplicemente si trova più a suo agio nella partecipazione diciamo digitale che non quella fisica che pure deve essere mantenuta perché io sono una di quelle che invece confesso ha piacere di vedere e di partecipare alle file quando c'è da andare a votare io sono una che va anche a più seggi cioè nel senso adesso che non sono tuoi naturalmente ti presenti a me piace mi piace l'esercizio della democrazia quindi a me piace quando si vota per il referendum si vota a me piace andare in giro per i seggi mi piace vederlo l'esercizio fisico perché ti ritrovi con altre persone con cui evidentemente condividi valori ma questo non vuol dire che io non debba rispondere al messaggio di quel ragazzo che l'altro giorno quando avevo fissato una cosa di domenica mattina a Lecce mi ha scritto su Instagram per dirmi io vorrei tanto venire a vederti ma sono costretto a lavorare nel weekend per permettermi gli studi e io non devo permettere a lui di votare alle primarie ma allora davvero non abbiamo capito che cosa vuol dire nel 2023 la partecipazione soprattutto per le fasce più giovani che sono anche molto abituate allo strumento digitale e non lo trovo una scorciatoia perché magari uno che partecipa si sente coinvolto e magari poi riceve una mail per dire che nel circolo vicino a casa sua c'è un dibattito su le energie pulite o il nucleare magari poi ci va quel dibattito e magari da lì nasce un'altra cosa io ho iniziato così a me non me l'aveva prescritto il medico non pensavo di fare politica così attiva ma qualcuno mi ha invitato a partecipare a un'assemblea dopo l'affossamento della candidatura di Prodi sono andata mi sono sentita ad intervenire e oggi sette anni dopo e un po' di impegno istituzionale dopo mi sono riscritta esattamente in quel circolo della Bolognina quindi da cosa nasce cosa io ho iniziato così cioè come le ciliegie inizi una e poi non ti rendi conto che praticamente sono nove anni che faccio politiche in modo attivo anche se io non sono prestata io penso che quello con la politica deve essere l'unico contratto a termine che esiste questa è una cosa molto grillina eh beh però io ci credo io ci credo ma poi perché scusa ma perché grillina ragazzi siete subalterni voi quando dite così ma è un'idea di sinistra esatto ma scusami ma a chi diciamo non si può porre il tema che a un certo punto serve il ricambio generazionale io non vedo l'ora che Carlo Fossati che qui a Milano l'altro giorno è venuto alla nostra assemblea rappresentante di istituto ha fatto un intervento durissimo sulla scuola e alla fine tutti eravamo così e lui ci ha detto comunque io sono qui perché vi sostengo e tutti così no poi ho detto ma io ho preso un sacco di delusioni quindi non deludermi anche te però ti sostengo perché ho l'impressione che per fortuna qualcuno finalmente parli con me e non di me allora io non vedo l'ora che i Carlo Fossati di questo mondo dicano e che palle la Schlein basta è in giro da dieci anni adesso arriviamo noi dieci anni sono pochissimi beh infatti ti dico però diciamo quando sarò segretaria del PD tra dieci anni me lo farò sentir dire ok lo dico perché c'è anche un discorso di competenza nel senso che questo è importante ci credo anch'io non sono mai stata una giovanilista e neanche una rottamatrice ok non ti piace il termine rottamatrice? no no lo trovo violento io non amo il linguaggio violento ok quindi ad esempio le correnti nel PD verranno dolcemente scusami una cosa guarda tutto che è un punto centrale centrale ok allora perché qualcuno comunque la rottamazione chi ha fatto la rottamazione che non l'ha fatta esatto ed era fortissimo ha creato la sua di corrente che peraltro è in parte ancora in piedi e non sta con me a questo congresso se vogliamo dirla tutta però no no perché scusa te la dico perché perché io non penso di essere migliore degli altri al punto da potermi tenere lo stesso metodo sbagliato e ottenere risultati migliori io vorrei cambiare quel metodo lì cosa che non ha fatto chi prometteva la rottamazione per sostituire la sua faccia e quelli della sua cerchia a quelle che c'erano già prima no per carità ci sta è un ragionamento che condivido sai cos'è sbagliato nessuno ha capito di chi stiamo parlando però sai cos'è sbagliato secondo me cioè davvero io vorrei un partito che è una leadership che non avesse paura di circondarsi delle persone più competenti e non di quelle più fedeli questo fa tutta la differenza del mondo no va bene però i gruppi allora la mettiamo proprio ecco che torna evil shy allora anche all'interno del PD esistono vari gruppi ideologici no e questo voglio dire viva Dio che ci sono delle perfetto la tua candidatura rappresenta un gruppo ideologico potremmo dire cioè avrà dei punti in comune sotto quell'aspetto non è solo che è simpatica e l'ishline la sosteniamo ma io però ho dichiarato da principio che questa non sarà una nuova corrente anche perché il nome lo rende impossibile gli flyniani potrebbero essere gli ellini però tornando sul discorso sembra una roba brutta sembra una roba brutta comunque però nel senso magari sto per difendere le correnti del PD chi sono ragazzi comunque sta venendo tutto da solo nel senso io non lo sto portando però io capisco anche che se tu domani non vinci le primarie non te ne vai dal PD no? hai detto io non me ne vado no uso il presenza domani non vincessi non te ne andresti perché sennò anche lì c'ho le critiche che non so parlare italiano tu l'hai detto ma è plausibile che quindi avrai una vita di partito questa vita di partito avrai necessità di esprimere le tue posizioni quindi tu dirai io non mi faccio la mia corrente però poi magari ti farei la tua corrente nel senso che cioè ti troverai dei compagni di percorso all'interno del partito e dipendentemente da quanto sarà influente la tua sarà una corrente guarda c'è un modo semplice per risolvere questo problema votarmi e farmi vincere le primarie è una minaccia quindi no è un suggerimento è un suggerimento ok ok ma però tu te ne sei già andata come posso come posso fidarmi di lei signora Schlein allora è chiaro che c'è stata una fase sette anni fa in cui chi dissentiva veniva diciamo quotidianamente malmenato e umiliato dopodiché alcuni di noi me compresa non hanno retto la contraddizione proprio perché erano stati eletti recentemente alle europee su una piattaforma e senza un minimo di discussione o di condivisione alle primarie precedenti si sono trovati un partito che usava quei voti anche propri per fare il job set che io penso sia stata una politica estremamente sbagliata ma non tutti d'accordo sento applausometro ma guarda il congresso è fatto esattamente per dirci questo no perché adesso sono contenta che anche gli altri candidati sembrano tutti d'accordo però in piazza nel 2015 con la CGL c'ero io e gli altri non li ho visti adesso magari è più facile perché è più facile dirlo ad esempio a me non dispiace così tanto il job set a noi di Forza Italia però lo dico seriamente io ho delle opinioni non così nette ecco non così nette però chi se ne frega nel senso non sono io che corro per il PD però domani Bonaccini fa il job set 2 quindi tu esci di nuovo beh io mi auguro che nessuno di coloro che si candidano alle primarie ci farà lo scherzo che ci fecero allora di presentare tutte riforme calate dall'alto non discusse con nessuno che non erano state presentate nel programma delle primarie quindi è un non me ne vado ma no è un oggi non ci possiamo più permettere divisioni è un livello di conflittualità interna che davvero fa perdere energie preziose per costruire l'alternativa alle destre quindi non stiamo facendo e ci mancherebbe un congresso rivolto al passato stiamo facendo un congresso rivolto al futuro e per me questa non è una resa di conti identitaria non me ne frega niente quello che mi interessa è come costruiamo il nuovo PD il PD è un partito plurale guarda che rischi tu di fare delle correnti quello che accusavi me di fare delle multinazionali cioè il capo ispiatore di dire tutto il male sta lì magari ho visto persone cambiare correnti pelle e posizioni dentro al PD sei volte negli ultimi dieci anni allora il problema per me principale è ci diamo una linea chiara la riconosciamo salviamo però il pluralismo io non mi aspetto che il giorno dopo saranno tutti d'accordo ma se riusciremo con una forte partecipazione a far prevalere una linea chiara ecco poi starà chi guida il partito a diciamo portarla ad atti concreti a somigliare di più alle cose che diciamo perché in questi anni è questo che è mancato io il pluralismo lo salverò e lo difenderò perché è un partito che già oggi ha 5 milioni e passa di elettori ed elettrici non può illudersi che siamo tutti omologati al suo interno e va bene se diciamo le aree sono aree di pensiero di elaborazione culturale che animano il dibattito sui temi quello che è andato meno bene è quando al momento di fare le liste si tira fuori il manuale Cencelli e si cerca di costruirle in modo bilanciato diciamo tra quelle aree ecco io su questo ti ho proposto quali possono essere alcune soluzioni ok Letta è stato per un segretario che mi è sembrato aver aperto molto mi sembra che questa fosse un po' la sua visione ma ancora più Zingaretti quando fece Piazza Grande nel congresso precedente c'era già stato cioè non è la prima volta che si prova ad aprire le porte ok è andata male mi sono andata a provare cosa hanno sbagliato Letta cosa ha sbagliato ma cosa ha sbagliato io credo che ai tempi della costruzione delle alleanze non sia stato molto aiutato dagli interlocutori politici dopodiché è chiaro che la situazione non era facile io ero tra coloro che speravano invece si costruisse il famoso campo largo perché sarebbe stato l'unico modo di contrastare l'accordo di potere fatto dalle destre che poi hanno vinto le elezioni io credo che oggi sarebbe irresponsabile continuare tra le opposizioni a essere più divisi di quanto è diviso il governo anziché trovare alcune battaglie comuni da portare davanti insieme portare avanti insieme dentro al Parlamento e nel Paese a partire dal salario minimo su cui tutte le opposizioni hanno fatto delle proposte e il governo e la maggioranza le hanno respinte tutte quindi io spero che su questo terreno posso dirti un'altra guarda a me colpisce che Giorgia Meloni abbia detto nel primo discorso alla Camera che lei ha rotto il soffitto di cristallo ecco io non penso che tu possa rompere il soffitto di cristallo da sola perché è fisica cioè non basta un punto solo di pressione se la gran parte delle altre donne del paese neanche arrivano a vederlo perché sono schiacciate da una cappa di discriminazione di genere in tutti gli ambiti di vita allora ogni tanto dico a Giorgia Meloni che noi ma lo dico senza polemica che non ce ne facciamo niente di una premier donna se non aiuta tutte le altre donne a migliorare le proprie condizioni di vita certo allora anche se la domanda era cosa ha sbagliato Letta allora ti dico sono disposte le altre opposizioni con cui io avrei provato tutta la strada di trovare un accordo diciamo comunque per le elezioni anche con Calenda e Renzi guarda ti sto dicendo temi su cui anche Calenda e Renzi hanno fatto una proposta e ne aggiungo un'altra se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne di questo paese magari non le attacca sulle pensioni discriminandole su opzione donna a seconda del numero dei figli quando hanno già 60 anni che anche volendo non è che puoi recuperare cioè non so se mi spiego le aiuti se tu fai una misura come un congedo paritario pienamente retribuito di tre mesi non trasferibile tra i genitori quella è una misura che aiuta le donne perché redistribuisce il carico di cura ok lo dico salutando diciamo un amico comune che è qui questa sera sì Sio che da poco è diventato babbo e sta facendo diciamo quello che dovrebbe fare ogni padre cioè condividere il carico di cura perché è incredibile che sulle donne in una società patriarcale gravi in modo così sproporzionato questo carico di cura che poi le schiaccia dal punto di vista professionale ok grazie Sio io sono terrorizzato che adesso Sio entri con una chitarra ma magari ok anche se comunque la domanda era su cosa ha sbagliato Letta ti ho detto secondo me sulle alleanze diciamo bisognava portare fino a fondo un tentativo più ampio però capisco che non è che è stato un errore di Letta è stato un errore di tutto il gruppo dirigente che l'ha spinto anche di alcuni candidati al congresso attuale che l'hanno spinto anche fortemente in quella direzione quindi tu saresti per aprire nuovamente a Terzo Polo Cinque Stelle cioè nuovamente costruiamo nuovamente io anzitutto penso questo prima usiamo questo congresso per capire chi siamo che cosa vogliamo fare per questo paese quello dice molto però di chi siamo beh insomma quando è il prossimo dimmi te quando è la prossima elezione in cui bisognerà fare delle alleanze a parte le regionali nazionali che si terranno diciamo si sono già tenute insomma sì quando saranno saranno l'anno prossimo allora come usiamo quest'anno ci interroghiamo tutto il tempo su con chi stiamo o ci interroghiamo su cosa vogliamo fare per l'Italia e a seconda di quello invitiamo tutte le altre forze politiche non della destra a una riflessione quello che stiamo proponendo noi è di mettere al centro di questo nuovo PD il contrasto alla precarietà il contrasto a ogni forma di diseguaglianza che vuol dire più sanità pubblica più scuola pubblica vuol dire contrastare questo disegno di autonomia differenziata che spacca ulteriormente il paese anziché ricucirlo e vuol dire come affrontiamo la conversione ecologica su questi temi chi ci sta a discutere io spero il fronte più largo possibile ok è che è un po' quello che dicono tutti i politici però no anche Calenda dice ma magari lo dicessero io gli sento dire soprattutto che con quello non ci voglio stare eh occhio perché se aspettiamo a fare le alleanze che si stiano tutti simpatici in questo ceto politico le alleanze non si faranno mai o le fai sui temi su un progetto condiviso per il paese o per il tuo territorio un contratto di governo bravo mi piace ti piace? sì però guarda è un contratto sociale quello che noi proponiamo un nuovo contratto sociale ok perché più che il rapporto tra il ceto politico e mi ci metto anch'io mi interessa come mettiamo insieme i bisogni delle persone che oggi si aspettano che davanti ad una destra che colpisce i poveri che colpisce le persone migranti che colpisce le donne che colpisce la comunità LGBTQI ci sia un'alternativa in questo momento io trovo imbarazzante che tra le opposizioni ci sia e non per diciamo volontà proprio nostra la competizione anziché la collaborazione anche perché le prossime elezioni in realtà saranno le europee dell'anno prossimo e sono elezioni in cui in realtà c'è un sistema proporzionale quindi ancora prima di porci il tema delle alleanze proponiamoci il tema di quali riforme possiamo spingere insieme oggi che siamo tutti all'opposizione perché tutti con un pezzo di responsabilità di quella divisione abbiamo perso le elezioni e il governo si è insediato il governo più a destra della storia repubblicana io spero che non siamo gli unici a sentirci addosso questa responsabilità ok ultima domanda e poi liberiamo e non abbiamo ancora parlato dei fetici anni 90 ah giusto penultima domanda fetici anni 90 migliori tre preferiti sedici anni 90 la manina appiccicosa che si trovava nelle patatine ok credo che ce ne sia ancora qualcuna attaccata al soffitto a casa dei miei che schifo e vabbè prova tu a staccarla e robin cosa fate vivete con una roba malzana no no gli altri due per me la domanda l'ho fatta e quindi andiamo all in allora facciamone uno a testa tuo i biker mais biker mais da marte tre topi giganti motociclisti che combattono con un politico con un politico ogni riferimento a cose persone realmente esistenti che era in realtà un pesce all true cioè questo è la ragione per la quale io guido una moto è vero sì sì ho anch'io la patente della moto l'ho venduta effettivamente era un apriglia RS 125 diciamo non era un bolide ok tu che cos'hai? è un Harley vabbè ciao ragazzi vado si è fatto tardi no ma è green hai capito perché l'ho venduta non ho più neanche la macchina ah sì cioè tu ti muovi solo bici come si ho solo bici no muovo diciamo magari mi hanno fregato due bici nel giro di sei mesi a Bologna è così c'è un mercato nero eh a proposito di nero mercato tendevo quello diciamo non lo so il secondo che ti posso dire Bayside School ok tu c'è? no ci sta adesso puoi dire Power Rangers e vergognarti per sempre sì io avevo la pausa io mentre facevo i compiti mia mamma mi consentiva di guardare Power Rangers cioè ora puoi fare mezz'ora di pausa e guardare Power Rangers era una parte importante della mia crescita della tua giornata molto molto importante onesto ma cioè nel senso dicere un altro tocca a te no te l'ho suggerito io Power Rangers non vale ah mi metti in difficoltà lo sai non sono abituato a ricevere le domande mi dispiace mi metto in una situazione di di difficoltà è una domanda finale classe sto glissando sui fetici totali il push pop ecco è lì che ti volevo è lì che ti volevo lo stavo pensando non sapete cosa è una cosa che ti macchiava la lingua super chimica faceva schifo sì ok a casa di Ellie ce ne sono ancora attaccati al sospita no 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 devo dire che mi faceva troppo impressione questa cosa della lingua quindi no consiglione è una cosa che chiedo a tutti i miei ospiti consiglio a chi vuole seguire un percorso come il tuo foderatevi il fegato diciamo no il consiglio pratico nel senso non richiesto è siate libere e siate liberi perché solo se ti tieni veramente stretta la tua libertà questo ti dà la forza anche di dire dei no quando vanno detti dei no e in politica capita spesso di dover saper dire dei no ma soprattutto non aspettate mai che qualcuno vi dia lo spazio prendetevelo voi perché se aspettate che in una società patriarcale e paternalista come la nostra qualcuno a un certo punto vi dica che siete pronte e siete pronti quel momento non arriverà mai lo so per esperienza candidatevi fatevi avanti prendetevi la vostra voce il vostro spazio perché è il vostro momento ultimissimissima una cosa buona che sta facendo questo governo bevo l'ultimo mirti nel frattempo fai bene ormai ti autogestisci giustamente se devo dare su un terreno facile vado sul terreno del fatto che l'ultima manovra comunque ha previsto delle risorse significative per aiutare famiglie imprese e lavoro sul carro energia non risolvono strutturamente il tema però quello andava fatto ed è stato fatto quindi sicuramente diciamo da questo punto su quel punto non hanno trovato la nostra opposizione ne hanno trovato tanta altra sulle bandierine ideologiche che stanno mettendo sulla crudeltà inumana e illegale di bloccare le persone nei porti e in mezzo al mare perché c'è una grande ipocrisia di questa destra cioè che inziché fare la guerra alle ONG bisognerebbe riconoscere che stanno solo sopperendo alla grave mancanza di una missione umanitaria europea di una mare nostrum europea io credo questo grazie a tutti grazie grazie mille in tutto questo Sanremo prosegue ma io l'ho visto l'ho visto sbirciare il Fantasanremo lo so lo so non mi offendo ragazzi spero sia stata utile spero di aver insomma aiutato a capire un po' chi è Ellie dove vuole andare cosa voglia fare soprattutto come abbia intenzione di farlo spero sia stato utile la gente che corre abbandona la sala quindi non tutti d'accordo e niente vi voglio semplicemente ringraziare grazie per l'attenzione ringrazio gli sponsor Tridom e NoWPN che mi permettono ancora di stare qui davanti a voi a fare queste bellissime serate per essere stati qua per aver riso delle mie battute che non facevano ridere che è sempre utilissimo e vi auguro buonanotte ciao a tutti ragazzi bentornati al teatro Carcano guardate com'è bello visto dall'alto oggi puntata numero 5 della terza stagione con ospite Ellie Schlein e sarebbe veramente molto bello poter lasciare tutto quanto allestito una puntata con l'altra però non si può e quindi vedete cosa stanno facendo gli altri ah vero comunque noi abbiamo fatto qualche modifichino alla scenografia vediamo se siete stati attenti qua qua solo c'entrano esprim bala 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 spaccala vai wow 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 break in italia visto non ti ho lasciato in visto io sono un necromisto proprio come sto disco danno di un fil di canna chi becchiamo su la scena dove il tiziano vende gelato staguarrata dove le ragazze che spaccano su la falla spaccano a fricani fujiti italiani mazzau siamo pura gentai sardi alienius break in italia si smove la falla a i sono staguarrata Tanto è rotta l'Italia Ma il calcio l'Italia Che in media love mi ha giudato In media love mi ha giudato In 24 love mi ha giudato In grupperlo mi ha giudato In media love mi ma dopo In media love mi ma dopo In 24 fa fa D'arri dei tedeschi Se non sono Spread 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 Un bit of peace Spread 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 Sono molto felice Di aver sentito parlare Tantissimo Ellie che è una persona Che ha le idee e le dice E non dovrebbe essere raro Ma è raro Vedere una persona con le idee così chiare E anche Shai è stato bravino Dai abbastanza Comunque ha una moto che fa tantissimo rumore E io disapprovo Io amo anche Star Wars Quanti ce ne sono? 9 È il mio 9 film preferito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.